Libro VII Agiosha Odore di putrefazione Il corpo del defunto padre Ieroshimonaco Zosima fu preparato per la sepoltura secondo il rituale stabilito. Come è noto, i corpi dei monaci e degli eremiti defunti non si lavano. Quando un monaco si reca da Dio, è scritto nel grande cerimoniale, il monaco designato, ovvero designato a quell'ufficio, strofina il corpo del defunto con acqua tiepida, facendo prima il segno della croce con una spugna, una spugnetta molto porosa, sulla fronte del defunto, sul petto, sulle mani, sui piedi, sulle ginocchia, e questo è sufficiente. Fu padre Paesì, in persona, ad eseguire questa operazione sul corpo dell'estinto. Dopo averlo strofinato, lo vestì con il suo abito monacale e lo avvolse nel mantello. Per far questo, secondo la regola, tagliò leggermente il mantello per avvolgerglielo a forma di croce. Sulla testa gli pose il cappuccio, con la croce a otto punte. Il cappuccio fu lasciato aperto e il viso del defunto venne coperto da un velo nero. Nelle mani gli misero l'icona del salvatore. Verso la mattina lo deposero nella bara, composto in quel modo. La bara era stata preparata da tempo. Si decise di lasciare la bara nella cella per tutto il giorno, nella prima stanza, quella più grande, quella stessa nella quale il defunto Stares riceveva confratelli e fedeli. Dal momento che il defunto aveva la dignità di ierosi monaco, dovevano essere gli ieromoneci e gli ierodiaconi a leggere il Vangelo, e non il salterio, presso il suo corpo. Subito dopo l'ufficio funebre, fu padre Yosif a dare inizio alla lettura. Intanto padre Paesì, che desiderava leggere il Vangelo più tardi, per tutto il giorno e per tutta la notte, era ancora molto impegnato e molto preoccupato, insieme al padre superiore dell'eremo. Da che si stava notando, e più passava il tempo e peggio era, sia fra la comunità dei monaci, sia fra gli ospiti della foresteria del monastero, e fra la folla dei fedeli, che si riversavano dalla città, un fenomeno straordinario, un'agitazione inaudita e persino sconveniente, e un'attesa impaziente. Sia il padre superiore, sia padre Paesì, fecero tutto quello che era in loro potere per calmare quella folla, che si agitava tanto affannosamente. Quando poi fu pieno giorno, cominciarono a sopraggiungere dalla città altre persone che avevano portato con sé persino i malati, per lo più bambini, come se avessero aspettato proprio quell'occasione per farlo, sperando evidentemente nel repentino potere terapeutico che, nella loro convinzione, non avrebbe tardato a rivelarsi. Solo allora divenne palese fino a che punto tutti da noi avessero preso a considerare senza incertezze lo starci defunto un grande santo, sin da quando questi era ancora in vita, e fra coloro che accorrevano non c'erano soltanto popolani, niente affatto. Questa intensa attesa da parte dei fedeli, che si era manifestata così in fretta e così apertamente, persino con una certa impazienza e quasi con insistenza, a Padre Paesì appariva un'indubbia tentazione che già da tempo gli aveva previsto, ma che in realtà aveva superato le sue previsioni. Quando incrociava monaci che manifestavano la loro eccitazione, Padre Paesì addirittura li rimproverava. Un'attesa così smaniosa di un evento straordinario, diceva loro, è un'avventatezza plausibile solo per i laici, ma che a noi non si addice. Ma quelli non gli prestavano ascolto, e Padre Paesì lo notava con inquietudine. Eppure, nonostante questo, egli stesso, se dobbiamo dire tutta la verità, sebbene fosse irritato da un'attesa così impaziente, e la giudicasse leggera e frivola, tuttavia di nascosto, dentro di sé, nel profondo del proprio cuore, si aspettava quasi le stesse cose di quegli esagitati, come del resto non poteva non riconoscere. Comunque, gli furono particolarmente sgraditi alcuni incontri, che suscitarono in lui grossi dubbi, come in una sorta di presentimento. Fra la folla stipata nell'accello del defunto, egli notò con repulsione interiore, che si rimproverò immediatamente, la presenza, per esempio, di Rakitin, e di quel monaco venuto in visita dalla lontana Obdorsk, e che ancora si tratteneva nel monastero. E la presenza di entrambe quelle persone, gli sembrò, a un tratto, e chissà per quale ragione, molto sospetta, sebbene in vero, avrebbe potuto provare la stessa cosa per altre persone. Il monaco di Obdorsk spicchiava come il più esaltato in quella folla eccitata. Lo si vedeva dappertutto, da tutte le parti. Faceva domande dappertutto, dappertutto origliava, e non faceva altro che sussurrare di qua e di là, con aria particolarmente misteriosa. Il suo viso esprimeva la più grande impazienza, e persino una certa irritazione, che non si avverasse quello che si aspettava. Quanto a Rakitin, quello come risultò in seguito, era arrivato così presto all'eremo, per speciale incarico della signora Cioclacova. Quella donna buona, ma priva di nerbo, non appena si era svegliata e aveva saputo del decesso, era stata sopraffatta da una tale incontrollabile curiosità, che non potendo essere ammessa di persona nell'eremo, gli aveva prontamente inviato Rakitin al posto suo, perché notasse ogni particolare, e glielo riferisse immediatamente per iscritto, ad intervalli di mezz'ora circa, con il resoconto di tutto quello che sarebbe avvenuto. Ella in realtà considerava Rakitin il piupio e credente dei giovanotti. A tal punto, egli era capace di raggirare la gente, e presentarsi a ciascuno in conformità dei suoi desideri, non appena ne intravedesse il proprio tornaconto. Era una bella giornata limpida, e molti visitatori si affollavano presso le tombe dell'eremo, che erano particolarmente numerose intorno alla chiesa, ma pure disseminate qua e là per tutta l'area dell'eremo. Mentre faceva il giro dell'eremo, padre Paesì si ricordò all'improvviso di Aglioscia, e si rese conto che non lo vedeva da molto tempo, più o meno dalla notte precedente. E se ne era appena ricordato, quando lo intravide nell'angolo più remoto dell'eremo, presso il muro di cinta, seduto sulla pietra tombale di un monaco istinto da tempo, e famoso per le sue imprese. Egli stava con le spalle rivolte all'eremo, e il viso verso il muro di cinta, e sembrava che si stesse nascondendo dietro quel monumento. Mentre gli si avvicinava, padre Paesì si accorse che egli piangeva disperatamente, anche se in silenzio, con il volto coperto da tutte e due le mani, e il corpo squassato dai singhiozzi. Padre Paesì rimase fermo accanto a lui per un poco. «Basta così, figliuolo caro, basta, amico mio!» disse infine commosso. «Perché fai così? Devi rallegrarti, non piangere, o forse non sai che oggi è il più grande dei suoi giorni. Dove si trova egli adesso, in questo momento? Pensa soltanto a questo!» Agliosha fece per guardarlo, scoprendo il volto gonfio dal pianto come quello di un bambino, ma subito dopo, senza dire una parola, si girò dall'altra parte e si coprì nuovamente il volto con le mani. «Forse è meglio così», disse padre Paesì pensierosamente. «Piangi pure, è Cristo che ti ha mandato queste lacrime. Le tue lacrime commoventi saranno un sollievo per il tuo spirito e serviranno a rallegrare il tuo cuore», aggiunse poi fra sé e sé, allontanandosi dagli oscia e pensando amorevolmente a lui. Si allontanò in fretta, forse sentendo che, guardando quel giovane, anche lui sarebbe scoppiato a piangere. Intanto il tempo passava, le funzioni e le messe funebre in memoria del defunto proseguivano secondo l'ordine stabilito. Padre Paesì sostituì ancora una volta padre Iosif presso la bara e riprese la lettura del Vangelo. Ma le tre del pomeriggio non erano ancora scoccate quando avvenne qualcosa alla quale abbiamo già accennato alla fine del libro precedente. Qualcosa di così inatteso, di così lontano dalle speranze generali che, lo ripeto, il resoconto frivolo e dettagliato di quell'incidente viene ancora oggi ricordato con estrema vividezza nella nostra città e nei dintorni. Aggiungo qui un'annotazione personale. Provo un certo ribrezzo a ricordare un evento tanto frivolo e tentatore, sostanzialmente privo di valore e del tutto naturale. E avrei senz'altro evitato di menzionarlo nel mio racconto. Se esso non avesse esercitato una così formidabile influenza sull'anima e sul cuore del principale, sebbene futuro, protagonista del mio racconto, Agiosha, segnando nel suo sviluppo spirituale una sorta di frattura e di svolta che sì, sconvolse, ma pure fortificò il suo intelletto indicandogli un fine preciso. Ma adesso riprendiamo la narrazione. Quando, ancora prima dell'alba, avevano deposto nella bara il corpo dello Starec, pronto per la sepoltura, e lo avevano trasportato nella prima stanza, quella in cui si ricevevano gli ospiti, tra i presenti era sorta la seguente domanda. Era il caso di aprire le finestre della stanza? Questa domanda, pronunciata da qualcuno come casualmente disfuggita, rimase senza risposta e passò quasi inosservata. O forse qualcuno fra i presenti ne prese nota tra sé e sé, solo come spunto, per considerare che attendersi la decomposizione e l'odore della decomposizione dal corpo di un tale santo fosse un'assurdità bella e buona, degna persino di compassione. se non di scherno, per la mancanza di fede e per la leggerezza di colui che aveva formulato un simile pensiero. Difatti ci si aspettava esattamente il contrario. Ma ecco che, subito dopo mezzogiorno, ebbe inizio qualcosa che coloro che entravano e uscivano dalla cella dapprima notarono in silenzio fra sé e sé, provando persino un certo timore di comunicare ad altri il pensiero che si stava affacciando alla loro mente. Ma poi, verso le tre del pomeriggio, la cosa diventò così evidente e inconfutabile che la notizia fece in un baleno il giro dell'eremo e raggiunse l'orecchio di tutti i pellegrini in visita per penetrare poi immediatamente anche nel monastero, dove provocò grande stupore in tutti i monaci. E infine, in un lasso di tempo brevissimo, raggiunse pure la città, mettendo in una citazione credenti e non credenti. I non credenti ne gioirono. Quanto ai credenti, ci fu chi ne gioia ancora di più dei non credenti, già che fra loro c'era chi amava la caduta e il disonore di un giusto, come aveva detto lo stesso Starec defunto in uno dei suoi discorsi. Il fatto è che dalla bara aveva cominciato a sprigionarsi a poco a poco, ma con l'intensità sempre crescente, un notevole odore di putrefazione che verso le tre del pomeriggio era diventato ormai chiaramente percepibile e continuava ancora ad aumentare. In tutta la storia del nostro monastero da tempo non si verificava, né in realtà se ne aveva memoria, un simile scandalo scoppiato in modo così inconsulto e impossibile a verificarsi in altre circostanze, come quello che si manifestò immediatamente dopo questa scoperta. persino tra i monaci stessi. In seguito, anche molti anni dopo, alcuni monaci assennati del nostro monastero, ricordando quella giornata in tutti i dettagli, si stupivano e non ridivano per il modo in cui quello scandalo avesse potuto raggiungere simili proporzioni. Infatti, anche in passato, erano morti monaci che avevano condotto una vita santa e la cui santità era evidente a tutti. Starci timorati di Dio e anche dalle loro umili bare si era sprigionato l'odore di putrefazione, del tutto normale per tutti i cadaveri, ma questo non aveva affatto dato adito, non dico ad un simile scandalo, ma nemmeno al minimo cenno di eccitazione. Certo, in antichità c'erano stati defunti il cui ricordo rimaneva ancora vivo al monastero e le cui spoglie, secondo la tradizione, non avevano mostrato segni di decomposizione. Questo fenomeno provocava un senso di commozione e mistero da parte della comunità dei monaci. Si conservava nella loro memoria come un evento magnifico e miracoloso e come una promessa che dalle loro tombe sarebbe derivata una gloria ancora più grande nel futuro se, per volontà di Dio, fosse giunto il tempo opportuno. Fra questi si servava in particolare il ricordo dello starec Yov che aveva vissuto sino all'età di 105 anni, un famoso asceta, grande campione del digiuno e del silenzio, morto da molto tempo, nella seconda decade del nostro secolo, e la cui tomba veniva mostrata con estrema e particolare venerazione a tutti i pellegrini che visitavano il monastero per la prima volta, con misteriose allusioni a grandi speranze ad essa connesse. Era la stessa tomba presso la quadre padre Paisì aveva trovato Agiosha quella mattina. Oltre a questo santo starec morto anni addietro, era ancora vivo il ricordo di un grande padre Ierosimonaco, deceduto relativamente di recente, lo starec Varsonofi, quello stesso dal quale padre Zosima aveva ricevuto lo starecetvo e che in vita veniva considerato da tutti i pellegrini che si recavano al monastero, senza mezzi termini, un puro folle. La tradizione diceva che entrambi questi monaci giasevano nelle loro bare come vivi che erano stati sepolti senza presentare alcun segno di decomposizione che addirittura, mentre li seppellivano, risplendeva una luce sui loro volti e alcuni ricordavano persino con insistenza che dai loro corpi si sprigionava una fragranza ben percettibile. Tuttavia, per quanto fossero suggestivi questi ricordi, sarebbe stato difficile spiegare il motivo per il quale presso la barra dello starec Zosima si fosse potuta verificare una manifestazione di tale leggerezza, perfidia e irragionevolezza. Secondo me, molte ragioni di diversa natura confluirono contemporaneamente e agirono tutte insieme in questo caso. Tra queste c'era persino una radicata avversione contro l'istituto dello strazettvo visto come un'innovazione perniciosa, un'avversione celata profondamente nelle menti di molti monaci del monastero. E poi, certamente e soprattutto c'era l'invidia per la santità del defunto che si era imposta così potentemente in vita da rendere qualsiasi critica praticamente impossibile. Infatti, sebbene lo Starec avesse attirato molti a sé e non tanto con i miracoli quanto con l'amore e avesse retto intorno a sé per così dire un intero mondo di persone che lo amavano, ciò non di meno e, anzi, proprio per questo si era attirato molte invidie e quindi anche degli acerrimi nemici sia dichiarati sia segreti e non solo fra i monaci ma pure fra i laici per esempio non faceva del male a nessuno neppure ci si domandava perché mai lo consideravano un santo in questo modo e questa sola domanda ripetuta all'infinito aveva ingenerato un vero subisso di insaziabile odio ecco perché così penso io udendo la notizia dell'odore di putrefazione che proveniva dal suo corpo e per di più così precociamente da che non era passato nemmeno un giorno dalla sua morte ci fu chi ne gioia di smisura allo stesso modo tra i devoti dello Starec che sino ad oggi lo avevano venerato ci fu pure chi si sentì mortificato e offeso personalmente da quell'avvenimento ecco le diverse fasi in cui si sviluppò la vicenda il processo di decomposizione si era appena manifestato eppure bastava dare un'occhiata al comportamento dei monaci che entravano nella cella del defunto per comprendere il vero scopo della loro visita entravano si trattenevano un poco e uscivano a confermare in fretta la notizia agli altri che aspettavano accalcati all'esterno alcuni fra quelli in attesa scuotevano il capo con aria triste altri non tentavano nemmeno di nascondere la propria contentezza che raggiava palese dai loro sguardi maligni nessuno li rimproverava più adesso nessuno alzava la voce in segno di protesta il che faceva persino meraviglia visto che i devoti allo starci defunto erano in maggioranza al monastero ma evidentemente il signore questa volta aveva permesso che la minoranza prendesse provvisoriamente il sopravvento in breve cominciarono a comparire nella cella sempre in qualità di spie anche dei laici per lo più visitatori delle classi colte di gente del popolo ne entrava poca sebbene se ne ammassasse una moltitudine presso le porte dell'eremo non c'è dubbio sul fatto che l'affluenza dei visitatori laici fosse sensibilmente aumentata dopo le tre eppure che questa fosse una conseguenza della scandalosa notizia molti che forse non si sarebbero recati all'eremo quel giorno né avevano intenzione di andarci adesso ci andavano di proposito non mancavano fra questi personalità di alto grado comunque non si era ancora arrivati al punto di trasgredire le norme della decenza e padre paesì con espressione severa continuava a leggere il vangelo con voce decisa e distinta come ignaro di quanto stesse accadendo anche se avevo notato da un pezzo qualcosa di inconsueto ma ecco che cominciarono ad aggiungere anche a lui delle voci all'inizio sommesse ma con il passare del tempo sempre più ferme e sicure questo dimostra che il giudizio divino è ben altra cosa da quello umano senti dire a un tratto padre paesì fu un laico a proferire quelle parole prima di tutti un impiegato della nostra città un uomo in avanti con gli anni e a quanto si sapeva di lui un uomo pio ma pronunciando quelle parole ad alta voce egli non aveva affatto altro che ripetere quello che i monaci andavano ripetendosi l'un l'altro all'orecchio costoro avevano già da molto tempo pronunciato quell'infelice giudizio e il peggio era che una sorta di soddisfazione trionfale trappelava sempre più evidente minuto dopo minuto in chi pronunciava quel giudizio ben presto cominciarono addirittura ad accantonare le norme della decenza e si sentivano quasi in diritto di farlo ma come ha potuto accadere questo si domandavano alcuni monaci all'inizio quasi dispiaciuti era di costituzione minuta secca tutto pelle e ossa da dove mai può essere venuto fuori quell'odore deve essere un segno del cielo aggiungevano in fretta gli altri e questa opinione veniva immediatamente accettata senza critiche dal momento che ancora una volta ricorrevano alla spiegazione che se quell'odore fosse stato naturale come nel caso del cadavere di un qualunque peccatore esso si sarebbe avvertito più tardi e non con tale precocità almeno dopo 24 ore mentre questo ha precorso la natura dunque si trattava esclusivamente di dio e della sua mano ammonitrice egli aveva voluto dire qualcosa tale conclusione colpiva per la sua irresistibilità il mite padre iero monaco iosif il bibliotecario beniamino del defunto cercò di replicare ad alcuni di questi maldicenti che se dappertutto le cose stanno così è che l'incorruttibilità del cadavere di un giusto non era un dogma per la chiesa ortodossa ma semplicemente un'opinione e che persino nei luoghi della millenaria tradizione ortodossa come Athos ad esempio non si rimaneva affatto turbati dall'odore di decomposizione anzi il segno principale della glorificazione dei penitenti non era l'incorruttibilità del corpo ma il colore che assumevano le ossa quando i corpi avevano ormai giaciuto per molti anni nella terra e vi si erano persino putrefatti se le ossa erano divenute gialle come la cera quello era il massimo segno che il signore aveva glorificato il pio estinto se invece erano divenute nere e non gialle significava che il signore non lo aveva ritenuto degno di cotanta gloria così giudicano al monte Athos quel luogo sublime dove la dottrina ortodossa si conserva dall'antichità nella sua integrità e nella più luminosa purezza così concluse padre Yosif ma le parole del mite padre non sortirono alcun effetto anzi suscitarono reazioni di scherno è tutta erudizione è gusto per l'innovazione non vale nemmeno la pena di stare ad ascoltare decisero fra sé i monaci noi ci atteniamo alla tradizione oggi giorno sorge ogni sorta di innovazioni dovremmo forse seguirle tutte soggiungevano altri non abbiamo avuto meno santi di loro quelli stanno sotto il gioco dei turchi e si sono dimenticati tutto anche la loro ortodossia si è contaminata non hanno nemmeno le campane aggiungevano i più beffardi padre Yosif si allontanò addolorato tanto più che egli stesso non era stato molto deciso nell'esprimere la propria opinione come se ci credesse poco pure lui egli si accorgeva con turbamento che stava accadendo qualcosa di molto sconveniente e che si manifestavano chiari segni di insubordinazione a poco a poco tutti i monaci più assennati furono ridotti al silenzio come padre Yosif e così andò a finire che tutti quelli che avevano amato lo stare cedefunto e che avevano accettato con obbedienza devota l'istituto dello star Setsvo provarono all'improvviso un vago terrore e incontrandosi si scambiavano l'un l'altro sguardi impauriti al contrario coloro che avversavano lo star Setsvo in quanto innovazione perniciosa andavano fieramente a testa alta il corpo dello starec varso nofi non solo non aveva odore ma emanava una dolce fragranza ricordavano alcuni malignamente e questo non certo grazie alla sua dignità di starec ma perché egli era un uomo giusto e a questo seguivano fiumi di critiche allo starec appena defunto e persino alcune accuse i suoi insegnamenti erano menzogneri insegnava che la vita è una gioia sublime e non una valle di lacrime dicevano alcuni fra i più insensati seguiva la moda odierna disconoscendo il fuoco materiale dell'inferno rincaravano la dose altri ancora più insensati non si atteneva rigorosamente alla regola del digiuno si concedeva dolci prendeva la marmellata di amarene con il tè gli piaceva moltissimo gliela mandavano le signore è ammissibile che una sceta beva il tè si sentiva dire da alcuni invidiosi sedeva pieno di superbia dichiaravano con crudeltà i più maligni si considerava un santo accettava come cosa dovuta che ci singino chiasse davanti a lui abusava del sacramento della confessione aggiungevano in un perfido sussurro i più accesi avversari dello staracezzo e tra questi c'erano alcuni dei monaci più anziani e severi nella loro devozione autentici campioni del digiuno e del silenzio che avevano taciuto quando il defunto era in vita ma che all'improvviso avevano dissuggellato le loro labbra il che era formidabile già che le loro parole esercitavano un potente effetto sui monaci più giovani e dalle convinzioni non ancora salde l'ospite venuto da Obdorsk il monacello di San Silvestro ascoltava tutto avidamente ospirava forte e spuoteva il capo no evidentemente padre Ferrapont giudicava correttamente ieri pensava tra sé e sé quando ad un tratto fece la sua comparsa padre Ferrapont in persona questa apparizione sembrava fatta apposta per aumentare la confusione generale ho già ricordato in precedenza che gli usciva molto di rado dalla sua celletta nell'apiario persino in chiesa non si faceva vedere per lunghi periodi e gli altri glielo concedevano come a un puro folle senza pretendere che si attenesse alla regola che valeva per tutti a dire proprio tutta la verità glielo concedevano anche perché non avrebbero avuto scelta già che sarebbe stato persino vergognoso insistere nel voler imporre anche il peso della regola comune a un campione del digiuno e del silenzio come lui che pregava giorno e notte si addormentava persino in ginocchio se non era egli stesso a volersi di sua volontà sottomettere a quella regola egli è il più santo di tutti noi e segue una regola più rigida della nostra avrebbero detto i monaci e se non viene in chiesa vuol dire che lo sa lui quando ci deve andare lui ha le regole tutte sue anche per evitare la tentazione di questi mormuli lasciavano in pace padre ferrapont come tutti sapevano padre ferrapont non nutriva grande affetto per lo stare zosima ed ecco che ora anche nella sua celletta era sopraggiunta l'improvvisa notizia che il giudizio di dio è cosa diversa dal giudizio degli uomini e che era avvenuto qualcosa che aveva persino precorso la natura è presumibile che uno dei primi ad accorrere per recargli la notizia fosse stato proprio l'ospite di obdorsk che gli aveva fatto visita al giorno prima e che aveva lasciato la sua cella atterrito ho anche menzionato il fatto che padre paesi che nel frattempo continuava irremovibilmente e fermamente a portare avanti la lettura del vangelo in piedi accanto alla bara sebbene non potesse sentire né vedere quello che stava accadendo fuori dalla cella aveva ben intuito l'essenziale in cuor suo se che conosceva quell'ambiente come il palmo delle proprie mani comunque non era turbato ma attendeva l'evolversi degli eventi senza timore seguendo con lo sguardo indagatore l'esito di quell'agitazione che già si profilava all'occhio della sua mente tutto a un tratto un frastuono straordinario proveniente dall'andito e che ormai decisamente contravveniva alle norve della decenza colpì il suo orecchio la porta si spalancò e padre Ferrapon comparve sulla soglia dietro di lui come si intuiva anzi si vedeva chiaramente dall'interno della cella si affollavano molti monaci che lo scortavano presso il terrazzino d'ingresso c'erano anche dei fedeli gli accompagnatori tuttavia non salirono nemmeno sul terrazzino d'ingresso ma rimasero in attesa di quello che avrebbe detto e fatto padre Ferrapon già che avevano il presentimento e persino un certo timore a dispetto della loro audacia che egli non si fosse recato là senza motivo rimanendo sulla soglia padre Ferrapon sollevò le braccia da sotto il suo braccio destro sbirciavano gli occhietti aguzzi e indagatori dell'ospite di unico che mosso da incontenibile curiosità non aveva esitato a salire di corsa su per la scaletta d'ingresso al seguito di padre Ferrapon tutti gli altri invece non appena si era spalancata la porta si erano tirati indietro colti da improvviso timore cacciando i demoni li ricaccerò e girandosi in tutte le direzioni egli fece il segno della croce su tutte e quattro le pareti e tutti e quattro gli angoli della cella in successione tutti quelli che avevano scortato padre Ferrapont compresero all'istante che cosa stesse facendo sapevano infatti che compiva quel gesto dovunque egli andasse e che non si sarebbe accomodato ne avrebbe detto una parola prima di aver ricacciato gli spiriti maligni satana via via satana va via ripeteva ad ogni segno di croce cacciando i demoni li ricaccerò gridò un'altra volta indossava la sua rozza tunica stretta in vita da una corda attraverso la camiciola di canapa si intravedeva il petto nudo coperto dalla peluria canuta i piedi erano completamente scalzi quando cominciò ad agitare le braccia le impietose catene che portava sotto la tunica all'improvviso si scossero e sferragliarono padre Paisì interruppe la lettura si fece avanti e rimase in attesa dinanzi a lui perché sei venuto venerabile padre perché infrangi il decoro perché turbi la pace del gregge disse infine guardandolo severamente perché sono venuto mi chiedi perché e tu che ne dici gridò padre Ferpont come fuori di senno sono venuto a ricacciare gli ospiti vostri i diavoli immondi sono venuto a vedere se se ne sono accumulati tanti in mia assenza voglio ricacciarli via con uno scopino di betulla vuoi cacciare l'impuro ma forse sei tu stesso a servirlo proseguì padre Paisì impavido e chi può dire di se stesso sono santo puoi forse dirlo tu sono immondo e non santo io non mi siedo in poltrona e non mi viene il capriccio di fare inginocchiare gli altri davanti a me come fossi un idolo tuonò padre Ferrapont oggigiorno la gente distrugge la santa fede il defunto quel vostro santo e si rivolse alla folla indicando la bara con un dito respingeva i diavoli somministrava purganti per scongiurare i diavoli e così essi hanno prolificato qui da voi come ragni negli angoli e oggi egli stesso ha iniziato a emanare puzzo in questo noi scorgiamo un sublime segno dal cielo un fatto del genere era davvero avvenuto nella vita di padre Zosima una dei monaci era perseguitato in sogno e poi anche da sveglio da visioni del maligno quando sgomento egli si confidò con lo starec questi gli consigliò di pregare ininterrottamente e di osservare il più rigoroso digiuno ma visto che questo non sortiva alcun effetto egli consigliò di prendere una medicina senza tuttavia tralasciare il digiuno e la preghiera molti a suo tempo ne furono scandalizzati e ne parlarono fra di loro scuotendo il capo più di tutti ne fu scandalizzato padre Ferraponte al quale alcuni detrattori si erano subito affrettati a riportare l'insolita disposizione impartita dallo starec in quel peculiare caso via via di qui padre disse in tono imperioso padre Paesì non tocca agli uomini giudicare ma a Dio forse in questo caso assistiamo a un segno che né tu né io né nessun altro è in grado di comprendere va via padre e non turbare il gregge gli ripete con fermezza egli non rispettava il digiuno secondo la regola imposta agli asceti come lui ecco perché il segno è venuto questo è evidente e nasconderlo è peccato il fanatico fuori di senno trasportato dal suo fervore non desisteva chi lasciava indurre in tentazione dai dolci gliene portavano le signore nelle tasche sorbiva il suo tè idolatrava il ventre suo riempiendolo di dolci e nutriva la mente di pensieri pieni di alterigia per questo ha subito il disonore le tue parole sono vacue padre disse padre Paesì alzando anche lui la voce io ammiro il tuo digiuno e il tuo rigore ma le tue vacue parole risuonano come quelle di un giovinetto volubile e immaturo da via di qui padre te lo ordino tu o no infine padre Paesì sono io che me ne vado disse padre Ferrapont come leggermente confuso ma sempre in tono iroso voi uomini eruditi con la vostra intelligenza vi ergete sulla mia umiltà venne in questo luogo quasi analfabeta e qui ho dimenticato quel poco che sapevo dio in persona ha difeso un debole come me dalla vostra sapienza padre Paesì gli stava di fronte con lo sguardo risoluto padre Ferrapont rimase in silenzio per un po' di tempo poi appoggiando il palmo della mano destra alla guancia con aria afflitta pronunciò cantilenando le seguenti parole con lo sguardo rivolto alla bara del defunto Starec domani a lui canteranno nostro soccorritore protettore un inno meraviglioso mentre quando creperò io canteranno che gioia terrena un piccolo cantico soggiunse in tono di piagnucoloso rammarico qui siete pieni di orgoglio e di boria è un luogo di vanità questo strillò all'improvviso come impassito e agitando le braccia si voltò di scatto e scese rapidamente gli scalini dal terrazzino d'ingresso la folla che attendeva ebbe un momento di indecisione alcuni lo seguirono senza indugio altri invece temporeggiarono giacché la porta della cella era ancora spalancata e padre Paisy uscito sul terrazzino dietro padre Ferrapont era rimasto a guardare ma il vecchio esagitato non era stato completamente zittito dopo una ventina di passi si girò bruscamente verso il sole al tramonto sollevò entrambe le braccia e come se lo avessero falciato all'improvviso cadde per terra e lanciò un urlo il mio signore ha trionfato Cristo ha trionfato sul sole che tramonta gridava freneticamente allungando le braccia verso il sole e crollando il capo per terra squassato dai singhiozzi come un bambino scosso dalle lacrime e allargando le braccia per terra in quel momento tutti si precipitarono verso di lui urlando e singhiozzando a loro volta sembravano tutti presi da una sorta di frenesia ecco chi è il santo ecco il vero giusto proclamavano ad alta voce senza più timore ecco chi dovrebbe essere lo starec dicevano altri malignamente ma egli non accetterebbe di diventare starec rifuterebbe non si metterebbe al servizio di una maledetta innovazione non si piegherebbe a scimmiottare la loro idiozia si intromisero subito altre voci è difficile dire fino a che punto si sarebbero spinti se in quel momento non avesse suonato la campana che invitava alla funzione cominciarono tutti a segnarsi anche padre ferraponte si alzò si fece un ampio segno della croce e si avviò alla sua cella senza guardarsi intorno continuando a strepitare ma questa volta erano parole incoerenti alcuni lo seguirono mai più si dispersero affrettandosi alla funzione padre Paisì si fece sostituire da padre Yosif nella lettura e scese anche lui le urla frenetiche dei fanatici non erano riusciti a sconvolgerlo ma nel suo cuore provò una subitanea tristezza e una profonda angoscia che erano dovute a una ragione particolare lo sentiva questo e gli si fermò a domandarsi a che cosa è dovuta questa mia tristezza che sfiora lo sconforto e immediatamente intui con stupore che quell'improvvisa tristezza era dovuta a un motivo minimo e del tutto particolare tra la folla che si assiepava poco prima presso l'entrata della cella aveva scorto di sfuggita in mezzo agli altri anche a Yosha e in quel momento gli sovvenne che guardandolo aveva subito avvertito una specie di dolorosa stretta al cuore è mai possibile che quel ragazzo abbia assunto una tale importanza adesso nel mio cuore si domandò stupito e in quel momento a Yosha stava per l'appunto passando accanto a lui sembrava che si recasse in tutta fretta da qualche parte ma in direzione opposta alla chiesa i loro sguardi si incrociarono a Yosha distorse immediatamente lo sguardo e abbassò gli occhi bastò una sola occhiata a quel ragazzo perché padre Paisì intuisse quale profonda trasformazione fosse in atto in lui in quel momento si è caduto in tentazione esclamò ad un tratto padre Paisì non sarai anche tu con quelli di poca fede aggiunse con aria afflitta Yosha si fermò e gettò uno sguardo vago su padre Paisì ma poi distolse nuovamente gli occhi e nuovamente li abbassò se ne stava di fianco senza rivolgere il viso al suo interlocutore padre Paisì lo osservava attentamente dove vai così di fretta le campane chiamano la funzione gli domandò ancora ma Yosha non rispose neanche questa volta ah stai lasciando l'eremo ma vai via senza salutare senza benedizione Yosha tutto a un tratto sorrise forzatamente e lanciò un'occhiata strana molto strana al padre che lo interrogava e al quale lo aveva affidato la sua antica guida spirituale il dominatore del suo cuore e della sua mente il suo amato Starec e all'improvviso senza dire una parola come prima agitò la mano come incurante ormai di portare rispetto e proseguì a passi rapidi verso l'uscita dell'eremo tornerai sussurra padre Paisì seguendolo con lo sguardo triste e stupito il momento giusto padre Paisì naturalmente non aveva sbagliato nel pensare che il suo caro ragazzo sarebbe tornato e forse aveva davvero intuito magari non completamente ma pur sempre con perspicacia il vero significato della condizione spirituale di Yosha tuttavia devo essere franco sarebbe molto difficile anche per me dare un'idea precisa di quello strano e indefinito momento nella vita del protagonista del mio racconto così giovane e a me così caro all'accorata domanda che padre Paisì aveva posto ad Yosha non sarai anche tu con quelli di poca fede io per Yosha avrei risposto con fermezza no non è dalla parte di quelli di poca fede anzi era vero addirittura il contrario tutto il suo turbamento derivava proprio dal fatto che la sua fede era grande eppure il turbamento c'era si era verificato ed era tanto tormentoso che anche in seguito persino molti anni dopo Yosha considerava quel triste giorno come uno dei più penosi e fatali di tutta la sua vita se si ponesse direttamente la domanda ma tutta quell'angoscia e quell'inquietudine potevano essere causate solo dal fatto che il corpo dello Starec invece di sprigionare un immediato potere risanatore aveva al contrario manifestato prematuri segni di decomposizione io risponderò senza tanto tergiversare sì era proprio così chiederai semplicemente al lettore di non ridere troppo in fretta dell'ingenuo cuore del mio giovane protagonista tuttavia non ho affatto intenzione di chiedere scusa al posto suo né di scusare e giustificare l'ingenuità della sua fede con argomenti quali la sua giovane età o gli scarsi progressi da lui compiuti negli studi o altre cose del genere farò esattamente il contrario e dichiarerò fermamente che nutro la stima più sincera per la natura del suo cuore senza dubbio un giovane diverso cauto nel farsi impressionare già abituato ad amare tiepidamente e non con ardore dotato di un'intelligenza infallibile ma eccessivamente cerebrale rispetto alla sua età e quindi di poco valore un simile giovane credo io avrebbe potuto evitare quello che accade al mio giovane ma in alcuni casi è davvero più ammirevole lasciarsi trasportare da un'emozione per quanto irragionevole ma comunque generata da un profondo amore che non rimanere ad essa insensibili e questo è tanto più valido in gioventù già che un giovane è troppo costantemente razionale è poco affidabile e non vale molto ecco come la penso io la gente assennata forse replicherà non è possibile che tutti i giovani credano a un tale pregiudizio e il vostro giovane non è un modello per gli altri a questo io rispondo ancora una volta sì il mio giovane aveva fede una fede santa e incrollabile eppure non chiedo indulgenza per lui vedete sebbene in precedenza abbia dichiarato e anche troppo precipitosamente forse che non avrei spiegato scusato e giustificato il mio eroe ritengo che qualche delucidazione sia qui necessaria per comprendere il resto della storia ecco che cosa vi dirò qui i miracoli non c'entrano e lui non c'era alcuna frivola e impaziente attesa del miracolo non già al trionfo di qualche sua convinzione servivano i miracoli in quel momento ad Agliosha assolutamente no né per qualche sua idea precedente preconcetta che così avrebbe subito trionfato su qualche altra oh no niente di tutto questo nel suo caso davanti a lui prima di tutto al primo posto c'era una persona e soltanto una persona la persona del suo amato Staric la persona di un giusto che gli ammirava sino alla venerazione il fatto era che tutto l'amore che si celava nel suo giovane e innocente cuore per tutto e per tutti in quel ricordo e per tutto l'anno precedente si era come temporaneamente concentrato e forse anche non del tutto a ragione principalmente su un unico essere almeno negli impeti più intensi del suo cuore il suo amato Staric e adesso era morto vero è che quell'uomo aveva rappresentato così a lungo per lui un ideale inconfutabile che egli non poteva fare a meno di indirizzare tutte le sue giovani forze e le sue energie esclusivamente su questo ideale raggiungendo alle volte addirittura l'oblio di tutto e di tutti in seguito ricordò egli stesso che quel difficile giorno aveva completamente dimenticato il fratello Dmitri per il quale si era tanto angosciato il giorno prima aveva perfino dimenticato di riportare i 200 rubli al padre di Yushenka come si era ripromesso di fare con tanto fervore sempre il giorno prima ma lo ripeto non già di miracoli aveva bisogno ma soltanto della suprema giustizia che secondo la sua convinzione era stata violata e questo aveva inflitto un colpo duro e improvviso al suo cuore e che cosa c'era di male se questa giustizia nelle aspettative di Agiosha per il modo stesso in cui si erano sviluppati gli eventi aveva assunto la forma dei miracoli attesi immediatamente dalle ceneri della sua adorata guida spirituale beh tutti al monastero nutrivano i medesimi pensieri e le medesime speranze anche coloro che Agiosha riveriva per la loro intelligenza lo stesso padre Paisì per esempio e così Agiosha senza lasciarsi turbare da dubbi aveva dato ai suoi sogni esattamente la stessa forma che loro avevano dato agli altri ed era pure da molto tempo che nel suo cuore si erano radicate queste aspettative nel corso dell'intero anno della sua vita monastica così anche il suo cuore si era ormai assuefatto ad esse ma egli bramava giustizia giustizia non miracoli ed ecco che colui che in conformità alle sue speranze avrebbe dovuto essere innalzato più in alto di tutti gli altri al mondo invece di ricevere la gloria che gli era dovuta veniva improvvisamente degradato e disonorato per quale ragione chi lo aveva giudicato chi poteva aver decretato una cosa simile ecco le domande che presero subito a tormentare il suo cuore casto e inesperto non poteva tollerare senza provare mortificazione e addirittura rabbia che il più giusto dei giusti fosse sottoposto al dileggio perfido e beffardo di una folla così frivola e a lui inferiore se non ci fosse stato alcun miracolo né fosse accaduto alcunché distrabiliante e le aspettative immediate fossero rimaste disattese sarebbe stato tutto accettabile ma per quale ragione si era manifestata quell'infamia a che pro quella vergogna perché quella prematura decomposizione che aveva perfino precorso la natura come dicevano i perfidi monaci che senso aveva il segno che quelli adesso acclamavano con tanta solennità insieme a padre Ferapont e perché essi si credevano in diritto di acclamarlo in quel modo come poteva esserci in questo la provvidenza e la sua mano perché la provvidenza aveva nascosto la sua mano proprio nel momento più critico così pensava Agliosha quasi a sottomettersi volontariamente alle cieche mute in pietose leggi naturali ecco perché il cuore di Agliosha sanguinava in quel momento come ho già detto prima di tutto egli aveva a cuore la persona che amava sopra ogni altra al mondo e proprio quella persona era stata disonorata proprio quella era stata diffamata ammettiamo pure che queste legnanze del nostro giovane fossero frivole irragionevoli ma lo ripeto ancora per la terza volta sono pronto a riconoscere che potrebbe essere frivolo da parte mia e sono pronto a riconoscere che potrebbe essere frivolo da parte mia sono contento che il nostro giovane non si fosse rivelato tanto razionale in quel momento già che tutte le persone intelligenti prima o poi tornano a ragionare ma se nel cuore di un giovane non si rivela l'amore nemmeno in un momento così eccezionale quando mai esso potrà rivelarsi comunque non ho intenzione di passare sotto silenzio un fenomeno piuttosto strano che emerse sebbene fugacemente in quel momento fatale e disorientante per la mente di Agiosha questo nuovo qualcosa che gli era balenato alla mente in quel momento era l'impressione alquanto tormentosa che gli aveva lasciato la conversazione del giorno prima con il fratello Ivan e che ora lo ossessionava e proprio in un simile momento oh non che qualcuna delle convinzioni più basilari più essenziali diciamo così fosse stata scossa nella sua anima egli amava il suo dio e credeva ciecamente in lui anche se tutto a un tratto si era trovato a mormorare contro di lui eppure la vaga ma tormentosa e malefica impressione che gli aveva lasciato la conversazione del giorno prima con il fratello Ivan ad un tratto riprese ad agitarsi nella sua anima nel tentativo di affiorarvi sempre di più aveva cominciato a imbrunire quando era Chitin attraversando il boschetto di pini che si allungava tra l'eremo e il monastero notò tutto a un tratto Agiosha che giaceva a prono sotto un albero immobile come addormentato gli si avvicinò e lo chiamò sei qui Alexei come hai fece per dire meravigliato ma si fermò senza finire la frase avrebbe voluto dire come hai fatto a ridurti così Agiosha non rivolse lo sguardo verso di lui ma da un suo movimento Arachitin intuì subito che Agiosha lo sentiva e capiva ma che hai continuava meravigliato ma il suo stupore si andava mano a mano trasformando in un sorriso che assumeva una piega sempre più ironica ascolta sono più di due ore che ti cerco all'improvviso sei scomparso da lì ma che stai facendo che stupidaggini da bigotti sono mai queste potresti almeno guardarmi Agiosha sollevò il capo e si sedette poggiando la schiena contro il tronco dell'albero non stava piangendo ma il suo viso esprimeva sofferenza e nel suo sguardo si leggeva irritazione comunque non guardava dritto verso l'achitin ma da qualche parte di lato sai il tuo viso è cambiato completamente non c'è più traccia della tua famosa mitezza di un tempo sei arrabbiato con qualcuno vero? ti hanno offeso smettila disse Agiosha bruscamente senza guardarlo come prima con un gesto stanco della mano oh oh ecco come siamo diventati abbiamo cominciato ad alzare la voce come tutti i mortali tu che te ne stavi in mezzo agli angeli beh sai Agiosha mi hai davvero stupito lo sai questo sto parlando sul serio è da un pezzo che non mi meraviglio più di nulla ti avevo sempre considerato una persona istruita Agiosha finalmente sollevò lo sguardo verso di lui ma quasi distrattamente come se capisse a malapena quello che gli stava dicendo sai forse in questo stato solo perché il tuo vecchio ha incominciato a puzzare ma credevi veramente che avrebbe iniziato a dispensare miracoli esclamò Rakitin ritornando al tono stupito di prima ci credevo ci credevo voglio crederci e ci crederò che altro vuoi gridò Agiosha irritato proprio niente caro mio ma al diavolo nemmeno un tredicenne crederebbe a queste cose ma del resto che diavolo così adesso ti sei arrabbiato con il tuo dio ti sei ribellato non gli hanno dato il grado non gli è stato conferito l'ordine al merito che tipi che siete voi altri Agiosha fissò a lungo Rakitin con gli occhi socchiusi e il suo sguardo ebbe uno sfavillio ma non di rabbia contro Rakitin io non mi sto ribellando contro il mio dio solo che non accetto questo mondo disse Agiosha con un repentino sorriso un po' forzato come sarebbe a dire che non accetti questo mondo Rakitin riflette per un attimo su quella risposta che idiozia è mai questa Agiosha non rispose beh basta con queste sciocchezze passiamo ai fatti hai mangiato oggi non ricordo credo di sì hai bisogno di mangiare qualcosa a giudicare dalla faccia che hai fa pena guardarti e non hai nemmeno dormito stanotte ho sentito che c'è stata una riunione lì da voi e poi tutto quel trambusto quel pasticcio forse tutto quello che avrai mandato giù è un pezzo di pane santo ho del salame in tasca l'ho preso poco fa in città per ogni evenienza mentre venivo qui ma tu il salame non dammi il salame bene ecco a che punto sei arrivato vuol dire che è una ribellione in piena regola con tanto di barricate beh fratello non è una cosa da prendere alla leggera fai un salto da me tracannerai volentieri un bicchierino di vodka anch'io sono stanco morto la vodka è ancora troppo per te forse o ne vorresti un po' vada anche per la vodka accidenti mi sorprendi fratello Rakitin lo guardò con tanto d'occhi comunque in un modo o nell'altro vodka o salame questa è una bella occasione audace da non perdere andiamo Aiosha si alzò da terra in silenzio e si mise a seguire Rakitin se ti vedesse tuo fratello Vanenka non crederebbe ai suoi occhi a proposito tuo fratello Ivan Fiodorovich stamattina è partito per mosca lo sai lo so rispose Aiosha indifferente all'improvviso gli balenò alla mente l'immagine del fratello Dimitri ma balenò soltanto e sebbene questo gli ricordasse qualcosa che non doveva essere rimandato neanche di un minuto una specie di obbligo una terribile incombenza quel ricordo non produsse su di lui alcuna impressione non toccò il suo cuore anzi in quello stesso istante gli passò di mente e se ne dimenticò ma in seguito Aiosha ricordò a lungo quel momento il tuo fratellino Vanenka una volta mi ha definito una nullità liberale e senza talento una volta persino tu non hai resistito e mi hai fatto capire che sono disonesto beh starò a vedere che cosa ve ne fate del vostro talento e della vostra onestà Rakiti importò a termine quest'ultima frase fra sé e sé in un sussurro accidenti ma ascoltami adesso disse poi ad alta voce evitiamo il monastero tagliamo per il sentierino e andiamo dritto in città a proposito dovrai passare dalla cioclacova pensa un po' le ho scritto tutto quello che è successo e non vuoi che lei mi va a rispondere immediatamente con un bigliettino quella signora adora scrivere bigliettini che mai si sarebbe aspettata da uno star così venerabile come padre Zosima un simile gesto ha scritto proprio così gesto seppure adirata siete proprio dei bei tipi voi altri aspetta un attimo gridò Bruciapelo fermandosi di nuovo e di colpo trattenendo Agiosha per una spalla sai Aleska e lo guardò negli occhi con aria indagatrice sotto l'influsso di quel nuovo pensiero che ad un tratto si era affacciato alla sua mente anche se esteriormente stava ridendo egli era palesemente intimorito nel formulare ad alta voce quella sua nuova idea a tal punto egli stentava ancora a credere a quella strana e inattesa disposizione di spirito nella quale vedeva Agiosha in quel momento Aleska sai dove sarebbe meglio andare disse infine in tono timido e insinuante non me ne importa andiamo dove vuoi tu andiamo da Grushenka eh che ne dici si decise a dire Rakhitin tutto tremante per la timorosa attesa andiamo da Grushenka rispose senza indugio Agiosha pacatamente e quel repentino pacato consenso fu così inatteso per Rakhitin che a momenti fece un balzo indietro bene bene ecco si dò sbalordito ma poi afferrando con forza Agiosha per un braccio lo condusse rapidamente per il sentierino nel terribile timore che l'altro cambiasse idea camminavano in silenzio Rakhitin aveva persino paura di riattaccare discorso come sarà contenta davvero contenta fece per mormorare ma poi tacco e un'altra volta ma non era affatto per far piacere a Grushenka che portava Agiosha da lei Rakhitin era una persona pratica e non intraprendeva mai nulla se non ci vedeva un proprio tornaconto aveva un duplice scopo in questo caso in primo luogo la vendetta vedere cioè il disonore di un giusto e la presumibile caduta di Agiosha dalla schiera dei santi a quella dei peccatori e una simile prospettiva lo mandava già invisibilio in secondo luogo aveva in mente anche una ricompensa materiale molto vantaggiosa per sé ma di questo parleremo in seguito così è arrivato il momento giusto pensava tra sé e sé con gioiosa perfidia e noi lo chiapperemo proprio al volo questo momentino da che capita proprio a proposito una cipollina glushenka viveva nella zona più animata della città nei pressi della piazza della cattedrale in casa della vedova del mercante Morozov da cui aveva preso in affitto una piccola dipendenza in legno che dava sul cortile la casa dei Morozov invece era grande in muratura a due piani vecchia ed aspetto altremodo sgradevole ci viveva la padrona di casa una vecchia signora che conduceva vita isolata insieme a due nipoti anch'esse zitelle molto avanti negli anni la vedova non aveva necessità di affittare la dipendenza ma era noto a tutti che aveva accettato di prendere Grushenka come inquilina quattro anni prima solo per far piacere al mercante Samsonov suo parente generalmente riconosciuto come protettore di Grushenka si diceva che nel sistemare la sua favorita dalla Morozova lo scopo primario del vecchio geloso fosse stato quello di far sorvegliare la condotta della nuova inquilina dall'occhio vigile della vecchia ma l'occhio vigile di questa si era ben presto rivelato completamente inutile ed era andata a finire che la Morozova si vedeva molto di rado con Grushenka e non la importunava più con alcun tipo di sorveglianza vero è che erano passati quattro anni da quando il vecchio aveva condotto in quella casa dalla capitale del governatorato una diciottenne timida vergognosa fragile magrolina triste e pensierosa e da allora ne era passata di acqua sotto i ponti in città si sapeva poco della vita della ragazza e anche quel poco era molto vago e si era venuto a saperne di più negli ultimi tempi neanche da quando molti avevano preso interesse alla straordinaria bellezza nella quale si era trasformata grafena alexandrovna in quei quattro anni tiravano soltanto delle voci che la ragazza a 17 anni fosse stata raggirata da qualcuno un ufficiale si diceva e in seguito ne fosse stata abbandonata quell'ufficiale se n'era andato da qualche parte e si era sposato mentre Grushenka era rimasta nella miseria e nell'infamia si diceva però che sebbene Grushenka fosse stata salvata dalla povertà dal suo vecchio ella comunque proveniva da una famiglia onesta apparentemente diceto clericale era figlia di un diacono fuori ruolo o qualcosa del genere ed ecco che nel giro di quattro anni quella povera orfanella emotiva e oltraggiata era diventata una rosea e prosperosa bellezza russa dal carattere audace e risoluto orgoglioso e insolente una donna con il fiuto per gli affari un'accumulatrice di denaro avida e cauta e con le buone o le cattive era già riuscita come si diceva ad accumulare un suo personale gruzzoletto c'era solo un punto sul quale tutti concordavano era molto difficile arrivare a Grushenka e oltre al vecchio il suo protettore non c'era stato nemmeno un uomo in quei quattro anni che potesse vantarsi di aver goduto dei suoi favori era un fatto certo dal momento che molti avevano tentato di ottenere quei favori soprattutto negli ultimi due anni ma tutti i loro sforzi erano caduti nel vuoto e alcuni di quei corteggiatori erano stati costretti a battere una vergognosa e persino comica ritirata per via della ferma e beffarda resistenza incontrata in quella giovane donna dalla volontà di ferro si sapeva inoltre che la giovane donna si era data soprattutto nell'ultimo anno alla cosiddetta speculazione e che in quel campo aveva dimostrato capacità non comuni tanto che molti avevano finito per qualificarla una vera ebrea non che prestasse denaro a usura questo no ma era noto per esempio che in società con Fyodor Paolovich Karamazov aveva fatto incetta per qualche tempo di cambiali a prezzo irrisorio 10 copecchie per un rublo e in seguito su alcune di quelle cambiali aveva ricavato una somma 10 volte superiore al loro valore il malato Samsonov che nell'ultimo anno aveva perso l'uso delle gambe che gli si erano molto gonfiate vedovo tiranneggiatore dei suoi figli adulti possessore di centinaia di migliaia di rubli taccagno e spietato era caduto tuttavia sotto il potente influsso della sua protégée che in passato aveva tenuto a stecchetto e con il pugno di ferro a regime di magro come dicevano allora gli spiritosi ma Grushenka era riuscita ad emanciparsi suscitando nel contempo in lui una fiducia illimitata nella propria lealtà il vecchio ora defunto da un pezzo detentore di un grosso giro d'affari aveva anche un temperamento notevole soprattutto era tirchio e duro come il granito e sebbene Grushenka lo avesse colpito a tal segno che vivere senza dire gli era impossibile negli ultimi due anni fu proprio così egli tuttavia non le aveva intestato alcun capitale di rilievo e non lo avrebbe fatto neanche se ella lo avesse minacciato di abbandonarlo in compenso le aveva messo a disposizione un piccolo capitale e quando questo fatto divenne di pubblico dominio tutti si meravigliarono sei una donna che non si lascia infinocchiare le disse donandole la somma di 8000 rubli circa devi saperti destreggiare da sola ma sappi che oltre al mantenimento annuale di prima non riceverai più nulla da me fino alla morte e non ti lascerò nulla nemmeno nel mio testamento e mantenne la parola quando morì lasciò tutto ai figli che per tutta la vita aveva tenuto presso di sé al pari di schiavi insieme alle mogli e ai loro figli mentre nel testamento non fece neppure menzione di Grushenka tutto questo divenne di pubblico dominio solo in seguito e gli comunque dette non pochi consigli a Grushenka riguardo a come disporre del suo capitale personale e la avviò gli affari quando Fiodor Paolovic che inizialmente era entrato in contatto con Grushenka in occasione di una casuale speculazione finì con sua stessa meraviglia per innamorarsi perdutamente di lei tanto da sembrare uscito di senno il vecchio Samsonov che a quell'epoca teneva già l'anima fra i denti se la rise della grossa è degno di nota che Grushenka nel corso di tutta la loro amicizia era sempre stata estremamente e persino molto affettuosamente sincera con il vecchio e pare che egli fosse l'unica persona al mondo con la quale si fosse comportata in quel modo quando di recente era comparso sulla scena anche Dmitri Fiodorovic con il suo amore il vecchio aveva smesso di ridere al contrario una volta in tono serio e severo dette a Grushenka il seguente consiglio se proprio devi scegliere uno dei due tra padre e figlio scegli il vecchio ma a patto che quel vecchio farabutto ti sposi e ti intesti prima un certo capitale ma non continuare con il capitano non c'è futuro con lui queste furono le parole del vecchio lussurioso che aveva il presentimento della prossima morte e che infatti cinque mesi dopo aver pronunciato quel consiglio morì noterò di sfuggita che sebbene allora molti in città fossero al corrente dell'assurda e mostruosa rivalità dei Karamazov padre e figlio a causa di Grushenka pochi però comprendevano allora i veri termini del rapporto che la giovane donna aveva con ciascuno di loro le due serve di Grushenka dopo che era scoppiata la catastrofe della quale parlerò in seguito al processo testimoniarono addirittura che Agrafena Aleksandrovna riceveva Dmitri Fiodrovich solo perché lo temeva perché quello dicevano aveva minacciato di ucciderla Agrafena Aleksandrovna aveva due serve una cuoca molto anziana che già aveva prestato servizio presso la sua famiglia di origine malata e quasi sorda e sua nipote una ragazza sulla ventina giovane e vivace la cameriera personale di Grushenka Grushenka viveva molto modestamente e la sua casa era tutt'altro che lussuosa nella dipendenza occupava tre camere in tutto arredate dalla padrona di casa con mobili di mogano secondo lo stile degli anni venti quando Rakiting e Alyosha entrarono in casa il crepuscolo era già avanzato ma le camere non erano ancora illuminate Grushenka era in salotto sdraiata su un ampio e sgraziato divano con lo schienale in mogano duro e rivestito di un cuoio logoro e bucato da tempo poggiava il suo capo su due cuscini bianchi e soffici che aveva preso dal letto stava sdraiata su pina immobile con le braccia sotto il capo era vestita di tutto punto come se stesse aspettando qualcuno indossava un vestito di seta nera e una leggera cuffietta di pizzo le donava molto sulle spalle portava uno scialletto di pizzo appuntato sul petto da una vistosa spilla d'oro stava sicuramente aspettando qualcuno e se ne stava sdraiata impaziente e ansiosa con un lieve pallore in volto le labbra gli occhi ardenti la punta del piede destro che tamburellava impaziente sul bracciolo del divano la comparsa di rachitini e agli oscia provocò un lieve trambusto dall'ingresso si udì come grushen che abbalzò lesta dal divano e gridò impaurita chi è là ma la cameriera era andata rapidamente incontro agli ospiti e rispose subito alla padrona no non sono loro signora sono degli altri non è nulla che cosa avrà sussurrò rachitini introducendo per un braccio agli oscia nel salotto grushen incastava in piedi accanto al divano e sembrava ancora in preda allo spavento una folta ciocca della sua crocchia biondo scura l'era sfuggita dalla cuffietta e l'era caduta sulla spalla destra ma il lanù se ne accorse nella mise a posto finché non ebbe scrutato gli ospiti e non li ebbe riconosciuti ah sei tu ratitica mi hai spaventata a morte ma con chi sei chi è lì con te dio mio guarda chi mi ha portato esclamò dopo aver visto agli oscia ma ordina di portare le candele no disse rachitini con il tono disinvolto dell'amico intimo e di casa che si sente persino in diritto di dare disposizioni le candele certo le candele fenia portagli una candela beh hai trovato proprio il momento giusto per portarmelo esclamò un'altra volta accennando ad agli oscia e giratasi verso lo specchio cominciò a ravvivarsi rapidamente la crocchia con entrambe le mani sembrava contrariata non ti ho accontentata forse domandò rachitini con aria improvvisamente offesa mi hai spaventata rachitica ecco cosa e grushenka si voltò verso agli oscia con un sorriso non avere paura di me caro agli oscia sono immensamente felice che tu sia venuto da me mio ospite inatteso mentre tu mi hai spaventata rachitica pensavo che fosse un'irruzione di mitia vedi l'ho appena ingannato gli ho fatto promettere che mi avrebbe creduta e io invece gli ho mentito gli ho detto che sarei rimasta da kuzma kuzmie dal mio vecchio per tutta la sera e che mi sarei trattenuta sino a notte fonda a contare il denaro ogni settimana vado da lui per una serata intera a tenergli i conti ci chiudiamo a chiave lui batte sul pallottoliere e io lì seduta ad annotare i registri si fida soltanto di me mitia ha creduto che sarei rimasta lì e invece mi sono chiusa in casa e ne sto qui ad aspettare una certa notizia come mai fenia vi ha lasciato entrare fenia fenia corri al portone apri e guarda che non ci sia in giro il capitano forse è nascosto da qualche parte a spiarmi ho paura da morire non c'è nessuno agrafena alexandrovna ho appena dato un'occhiata in giro vado a spiare dalla fessura ogni minuto anche io sto tremando per la paura gli scuri sono chiusi vero fenia e dobbiamo anche tirare le tende è meglio e tirò lei stessa la pesante tenda del salotto se vedesse la luce si precipiterebbe in un baleno agli oscia oggi tuo fratello mitia mi fa paura disse grushenka a voce alta sebbene fosse in allarme ma sembrava pure presa da una certa esultanza perché hai tanta paura di mitienka oggi si informò Rakiti sembrava che non fossi affatto impaurita con lui lo comandi a bacchetta gli otto ho detto che aspetto una certa notizia una piccola notizia tutta d'oro e l'ultima cosa che voglio è avere mitia anche fra i piedi adesso e non ci ha nemmeno creduto che sarei andata da Kusma Kusmie me lo sento quindi sarà sicuramente nel suo nascondiglio sul retro della casa di Fiodor Paolovic nel giardino a fare la guardia che io non arrivi e se sarà lì non verrà qui tanto meglio ma io ho davvero fatto un salto da Kusma Kusmie mi ci ha accompagnato mitia stesso gli ho detto che mi sarei trattenuta sino a mezzanotte e gli ho chiesto che venisse assolutamente a prendermi per riportarmi a casa a mezzanotte in punto se n'è andato e io mi sono trattenuta una decina di minuti dal vecchio e poi sono subito tornata qui avevo paura ho fatto una corsa nel timore di incontrarlo e dove devi andare così bardata che curiosa cuffietta ti sei messa in testa e tu come sei curioso Rakitin te l'ho detto sto aspettando una notiziola non appena arriverà salterò su e prenderò il volo e non mi vedrete più qui ecco perché mi sono vestita di tutto punto per essere pronta per dove stai prendendo il volo se molto vorrai sapere invecchierai presto ma guarda un po' è contenta e giuliva non ti avevo mai vista così ti sei vestita come per andare a un ballo Rakitin la squadrò da capo a piedi te ne intendi tu di balli eh e tu una volta l'ho visto un ballo due anni fa si sposò il figlio di Kuzma Kuzmie e io guardavo dalla balconata ma che me ne importa di parlare con te Rakitka quando lì c'è un principe come lui un ospite come lui aiosha caro io ti guardo e non credo ai miei occhi può essere vero che tu sia venuto da me a dirti la verità non mi aspettavo non prevedevo non avrei mai creduto che tu saresti venuto anche se questo non è il momento giusto sono felice da morire che tu sia qui accomodati sul divano ecco qui ecco così mia giovane luna non riesco ancora a capacitarmene eh tu Rakitka se me lo avessi portato ieri o due giorni fa ma sono contenta anche così forse è anche meglio adesso in un momento simile che due giorni fa si sedette piena di brio sul divano accanto ad Agliosha e se lo guardava con autentico rapimento ed era contenta davvero non stava mentendo gli occhi le brillavano le labbra sorridevano ma di un sorriso buono allegro Agliosha non si sarebbe mai aspettato un'espressione così buona dal suo viso l'aveva incontrata poche volte prima di ieri e lei si era fatta un'idea spaventosa poi solo il giorno prima era stato terribilmente colpito dalla sua mossa cattiva e sleale contro Katerina Ivanovna quindi era molto stupito di vedere in lei in quel momento una persona completamente diversa in attesa e per quanto fosse oppresso dal proprio dolore i suoi occhi involontariamente si soffermavano con attenzione su di lei tutto il suo comportamento sembrava radicalmente cambiato in meglio rispetto al giorno prima nella mellifluità della sua voce di quei gesti voluttuosi emanierati del giorno prima non era rimasta quasi traccia era tutto semplice ingenuo i suoi movimenti erano rapidi diretti fiduciosi eppure era molto eccitata signore mio quante cose si accavallano insieme oggi davvero riprese a cicalare perché sono così contenta di vederti agli oscia non lo so nemmeno io se tu me lo domandassi non ti saprei rispondere come non sai perché sei contenta disse Rakiti sogghignando ma se non hai fatto altro che insistere portamelo portamelo avrai pure avuto uno scopo prima avevo un altro scopo ma adesso è passato tutto non è il momento adesso voglio offrirvi qualcosa di carino ecco cosa adesso sono diventata buona Rakitka ma accomodati anche tu Rakitka che fai lì in piedi ma hai già preso posto non è vero non c'è pericolo che Rakitka non pensi a se stesso eccolo lo vedi agli oscia sta seduto lì di fronte a noi a domandarsi offeso perché io non lo abbia invitato a sedersi prima di te com'è per maloso il mio Rakitka proprio per maloso scoppiò a ridere Grushenka non te la prendere Rakitka adesso sono buona ma perché sei così triste Aliechka non avrai mica paura di me ed ella lo guardò negli occhi con aria canzonatoria è triste perché non gli hanno dato la promozione fece Rakitka con voce di basso quale promozione il suo starec puzza come puzza stai dando i numeri vuoi dire qualche cattiveria sta zitto imbecille ma ioscia lascia che mi sieda sulle tue ginocchia ecco così e in un baleno gli balzò accanto e gli saltò sulle ginocchia ridendo come una gattina affettuosa passandogli teneramente il braccio a destra o intorno al collo ti farò tornare allegro io caro il mio devoto ragazzo mi permetterai davvero di stare seduta sulle tue ginocchia per un po' non ti arrabbierai scendo subito se me lo ordini ma non aveva risposto sembrava stordito ma non si trattava di quello che ci si sarebbe potuti aspettare avrebbe potuto immaginare per esempio Rakitin che lo osservava famelicamente dal suo posto il grande dolore che agli oscia aveva nell'anima inghiottiva tutte le sensazioni che potessero nascere dal suo cuore e se solo in quel momento avesse potuto rendersene conto pienamente avrebbe compreso che in quel momento egli era dotato di un'armatura più solida che mai contro qualsiasi seduzione e tentazione nonostante la vaga irresponsabilità della sua condizione spirituale e il dolore che tutto sopraffaceva egli tuttavia si meravigliava inconsapevolmente di una strana e nuova sensazione sorta nel suo cuore quella donna quella terribile donna non solo adesso non lo riempiva di terrore di quel terrore che prima nasceva in lui ad ogni pensiero che riguardasse la donna quando capitava che simili pensieri si affacciassero nella sua anima ma al contrario quella donna che prima aveva temuto sopra ogni altra che gli sedeva sulle ginocchia e lo abbracciava ora suscitava in lui un sentimento diverso inatteso e peculiare un sentimento di straordinaria acutissima e sincera curiosità nei confronti di lei ed egli provava questo senza la minima traccia di paura senza la minima traccia dell'orrore di un tempo ecco ciò che adesso contava e suo malgrado lo stupiva ma basta con le vostre chiacchiere assurde gridò Rakitka faresti meglio ad offrirci dello champagne sei in debito con me lo sai anche tu è vero sono in debito sai Agiosha oltre a tutto gli avevo promesso lo champagne se ti avesse portato da me vada per lo champagne lo berrò anch'io Fenia Fenia portaci dello champagne quella bottiglia che ha lasciato Mitia corri presto anche se sono Tirtia offrirò una bottiglia ma non per te Rakitka tu sei un fungo velenoso mentre lui è un principe e anche se la mia anima in questo momento è intenta a qualcos'altro ho voglia di bere anch'io insieme a voi ho voglia di fare follie ma che cosa ti prende e quale notizia stai aspettando posso chiedertelo o è un segreto Rakitin indagò nuovamente cercando con tutte le sue forze di far finta di non notare le frecciatine che venivano continuamente lanciate al suo indirizzo e non è un segreto e poi lo sai anche tu disse Grushenka fattasi pensierosa all'improvviso rivolgendosi a Rakitin e scostandosi leggermente dagli oscia anche se continuava a rimanere seduta nelle sue ginocchia con il braccio intorno al collo di lui viene l'ufficiale Rakitin il mio ufficiale avevo sentito che sarebbe venuto ma non pensavo fosse così vicino adesso è Amocroe da lì manderà una staffetta così mi ha scritto lui stesso ho ricevuto una lettera oggi stesso e ora sto aspettando la staffetta ma no e come mai Amocroe è una lunga storia e poi ti ho già raccontato abbastanza chissà che cosa combinerà quel mito in K adesso ai 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 ma lo sa oppure no ma cosa vuoi che sappia non sa proprio nulla se lo sapesse ci sarebbe un omicidio e poi non ho affatto paura di questo adesso adesso non ho paura del suo coltello sta zitto Rakitka e non mi ricordare Dimitri Fiodolovic quello il cuore me lo ha frantumato e io non ho voglia nemmeno di pensarci a queste cose in questo momento ecco ad Aleshka adesso posso pure pensarci io guardo Aleshka sì ma sorridi un po' caro sta allegro sorridi della mia stoltezza sorridi di questa mia felicità ecco ha sorriso ha sorriso con quanta dolcezza mi guarda sai Aliosha per tutto questo tempo ho pensato che tu fossi arrabbiato con me per quello che è avvenuto l'altro giorno per quella signorina sono stata una cagna ecco cosa comunque è stato un bene che sia successo è stata una brutta cosa ma anche una buona cosa Lushka sorrise pensierosa e una leggera sfumatura di crudeltà balenò nel suo sorriso Mitia mi ha raccontato che quella gridava bisognerebbe frustarla l'ho offesa a morte questa volta mi aveva mandata a chiamare voleva sconfiggermi voleva incantarmi con la sua cioccolata no è stato un bene che sia accaduto eri da chi ho di nuovo ma quello che temo è che tu sia arrabbiato ed è proprio così intervenne Arachiti inseriamente stupito vedi Agiosha lei ha davvero paura di un pulcino come te per te Arachitka lui è un pulcino perché tu non hai coscienza ecco cosa invece io lo amo con la mia anima ecco che ti dico ci credi Agiosha che ti amo con tutta l'anima ah che svergognata che sei ti sta facendo una dichiarazione di amore Alexei e allora io lo amo e l'ufficiale la notizia d'oro da Makroe quella è una cosa e questa un'altra questo è il tipico modo di pensare delle donne non mi fare arrabbiare Rakitka lo riprese vivacemente Grushenka quella è una cosa questa un'altra Agiosha lo amo in modo diverso è vero Agiosha prima avevo un perfido progetto su di te infatti sono una creatura meschina sfrenata ma in alcuni momenti ho preso a guardare a te Agiosha come alla mia coscienza pensavo sempre chissà quanto disprezzo una persona come quella deve provare per un malarnese come me ci pensavo ieri l'altro quando scappavo via da casa della signorina è da un pezzo che ti considero a quel modo Agiosha e Mitia lo sa glielo dicevo Mitia è capace di comprendere qualche volta ti guardo e mi vergogno Agiosha mi vergogno enormemente per me stessa si crederesti ma quando ho cominciato a guardarti in questo modo in quale momento esattamente non saprei dirtelo non me lo ricordo entrò Fenia e poggiò sul tavolo un vassoio con una bottiglia stappata e tre calici pieni di champagne hanno portato lo champagne gridò Rachiti sei sovraeccitata Grafena Aleksandrovna e sei fuori di te una coppa di champagne e sarai pronta a ballare non sanno fare nemmeno questo come si deve soggiunse guardando la bottiglia dello champagne la vecchia l'ha versato in cucina e hanno portato la bottiglia senza tappo eppure calda beh beviamolo lo stesso andò al tavolo prese una coppa la svuotò d'un fiato e se ne versò un'altra non capita spesso di imbattersi nello champagne disse aleccandosi le labbra su Agiosha prendine una coppa fa vedere chi sei ma che cosa beviamo alle porte del paradiso prendi una coppa Grushka bevi anche tu alla salute delle porte del paradiso ma quali porte del paradiso e la prese una coppa anche Agiosha prese la sua assaggiò lo champagne e lo rimise a posto no meglio che non beva e sorrise pacatamente bella prodezza gridò Rakitin beh se è così non berrò neppure io intervenne Grushenka e poi non ho neppure voglia bevi Rakitka scolati l'intera bottiglia se Agiosha berrà allora berrò anche io ma guarda che smancerie disse Rakitin prendendola in giro e gli sta pure seduta sulla ginocchia ammettiamo pure che gli abbia un dispiacere ma tu che hai lui è in rivolta contro il suo dio ed era anche disposto a mangiare il salame ma perché il suo stare c'è morto oggi lo stare Zosima il santo padre Zosima è morto ma è vero gridò Grushenka Dio mio è io che non lo sapevo e si fece devotamente il segno di croce Dio mio e io che cosa sto facendo sto seduta sulle ginocchia gridò ad un tratto come spaventata poi si volò in tutta fretta dalle sue ginocchia e si sedette sul divano Agiosha la guardò a lungo stupito e sembrò che il suo viso cominciasse a raggiare Rakitin esordia l'improvviso con voce alta e ferma non mi stuzzicare dicendo che sono in rivolta contro Dio non voglio provare rancore contro di te quindi cerca di essere più buono anche tu io ho perso un tesoro così prezioso quale tu non hai mai avuto e tu adesso non puoi giudicarmi faresti meglio guardare lei non hai visto come ha avuto pietà di me ero venuto qui per trovare un'anima cattiva da questo mi sentivo attratto perché ero meschino e cattivo io stesso e invece ho trovato una sorella sincera ho trovato un tesoro un'anima che mi vuole bene e la adesso ha avuto pietà di me agrafena alexandrovna sto parlando di te tu hai fatto rinascere la mia anima le labbra gli tremavano gli mancava il respiro smise di parlare e così è stata lei a salvare te scoppiò a ridere la chiti in costizia ma se voleva fare di te un solo boccone lo sai questo smettila la chitca saltò in piedi grushenka all'improvviso tacete tutti e due adesso vi dirò tutto tu a yosha taci perché le tue parole mi fanno provare vergogna perché sono cattiva non sono buona ecco come sono io e tu rakitka sta zitto perché menti ho avuto il progetto meschino di fare di lui un solo boccone in passato ma adesso stai mentendo adesso non è affatto così e che non si senta mai più dire una cosa del genere rakitka grushenka pronunciò questo con una insolita agitazione ecco e si sono imbestialiti tutti e due sbuffò rakitkin guardandoli entrambi stupito hanno perso il ben dell'intelletto sono capitato proprio in una casa di pazzi si sono così rammolliti tutti e due che fra un po' si mettono a piangere e mi metterò a piangere mi metterò a piangere ripete grushenka lui mi ha chiamata sorella e io non lo dimenticherò mai lasciami soltanto dire rakitka che anche se sono cattiva pure io ho donato la mia cipollina di quale cipollina parli ma al diavolo siete proprio impazziti rakitkin si stupiva della loro esaltazione e si accaniva risentito contro di loro anche se avrebbe ben potuto immaginare che in entrambi si stesse verificando uno di quei momenti che avrebbe potuto sconvolgere la loro anima come non capita spesso nella vita ma rakitkin che era perfettamente in grado di capire tutto ciò che riguardava se stesso era invece molto rozzo nel comprendere i sentimenti e le sensazioni del suo prossimo in parte per l'inesperienza della sua età in parte per il suo estremo egoismo vedi Aleshka e Grushenka si rivolse a lui con una risatina nervosa mi stavo vantando quando dicevo a rakitka di aver dato la mia cipollina anche io ma con te non mi vanto a te parlerò con un altro scopo è soltanto una favola ma è una bella favola l'ho sentita quando ero piccola dalla mia matregna che adesso mi fa da cuoca è così c'era una volta una donna cattiva cattiva che un giorno morì e dietro di sé non lasciava nemmeno una buona azione i diavoli la afferrarono e la lanciarono nel lago di fuoco ma l'angelo custode della donna si mette a pensare che buona azione posso ricordare per dirla a Dio se ne ricordò una e la riferì al Signore una volta strappò una cipollina dal suo orticello e la diede a un mendicante allora Dio gli rispose prendi anche tu quella stessa cipollina allungala verso di lei nel lago fai in modo che lei ci si aggrappi per tirarla fuori e se riesci a tirarla fuori dal lago che vada pure in paradiso ma se la cipolla si strappa che la donna rimanga lì dov'è l'angelo corse dalla donna le allungò la cipollina e le disse aggrappati e io ti tirerò fuori e cominciò a tirarla piano piano e l'aveva tirata fuori quasi tutta quando gli altri peccatori che erano nel lago videro che la stavano tirando fuori e cominciarono tutti a tentare di afferrarla in modo da essere tratti in salvo anche loro ma la donna cattiva cattiva cominciò a scalciare stanno tirando me e non voi la cipollina è mia non vostra non aveva ancora finito di dirlo che la cipollina si spezzò la donna ricalde nel lago ed è ancora lì che brucia e l'angelo scoppiò a piangere andò via ecco questa è la favola Agiosha l'ho imparata a memoria perché anch'io sono come quella donna cattiva cattiva con Rakitka mi sono vantata di aver dato una cipollina ma con te parlerò diversamente nella mia vita avrò dato soltanto una cipollina è l'unica buona azione che abbia commesso e non mi lodare adesso Agiosha non mi considerare buona io sono cattiva sono cattiva cattiva ma se mi loderai proverò vergogna sì devo confessare tutto ascolta Agiosha ero così ansiosa di mettere le grinfie su di te e ho tanto insistito con Rakitka che gli ho promesso venticinque rubli se ti avesse condotto qui da me un attimo Rakitin aspetta si avvicinò al tavolo a passi lesti aprì un cassetto estrasse il portamonete e da quello prese una banconota da venticinque rubli che assurdità che assurdità è mai questa esclamò Rakitin interdetto prendi Rakitka te li devo non c'è pericolo che li rifiuti li hai voluti tu e gli gettò addosso la banconota ci mancherebbe che li rifiutassi disse Rakitin con voce da basso palesemente imbarazzato ma mascherando la propria vergogna con spavalderia mi faranno molto comodo gli imbecilli esistono appunto per il profitto dei dritti e adesso sta zitto Rakitka quello che dirò da adesso in poi non è roba per le tue orecchie sediti in un angolo e sta zitto tu non ci vuoi bene e allora taci e che cosa ci guadagnerai a volere bene a voi grugnì Rakitin senza più nascondere la propria stizza aveva infilato nella tasca la banconota da venticinque rubli proprio sotto gli occhi di Agiosha e ne aveva provato una viva vergogna aveva fatto conto di ricevere la sua ricompensa più tardi in maniera che l'altro non lo venisse a sapere ora invece era stizzito per l'imbarazzo fino a quel momento aveva ritenuto estremamente diplomatico non contraddire molto Grushenka nonostante tutte le frecciatine di lei da che era evidente che quella aveva su di lui un certo potere ma adesso era alterato anche lui si ama qualcuno per qualche motivo e invece che cosa avete fatto voi due per me e tu ama senza alcun motivo come fa Agiosha e in che modo ti ama lui come ha fatto a dimostrarti il suo amore che adesso fai tante storie Grushenka stava in piedi in mezzo alla stanza parlava con trasporto e nella sua voce si avvertivano note isteriche sta zitto Rakitka tu non capisci niente di noi e non osare mai più darmi del tu non te lo permetto come hai osato prenderti questa libertà sediti in un angolo e sta zitto come fosse il mio lachè adesso Agiosha solo con te dirò tutta la verità la sacrosanta verità affinché tu veda che canaglia che sono sto parlando con te non con Rakitka volevo rovinarti questa è la verità l'avevo deciso lo volevo a tal punto che ho corrotto Rakitka con il denaro perché ti portasse qui da me e perché lo volevo con tanta determinazione tu Agiosha non sapevi proprio nulla ti voltavi dall'altra parte quando ti capitava di incontrarmi abbassavi gli occhi mentre io dal canto mio ti ho guardato un centinaio di volte prima di oggi ho cominciato a domandare a tutti i tuoi notizie il tuo viso mi era rimasto impresso nel cuore e pensavo mi disprezza non vuole nemmeno guardarmi e questo sentimento mi ha presa a tal punto che io stessa mi meravigliavo di come potessi temere tanto un ragazzino come te farò di lui un sol boccone e mi farò una gran risata pensavo ero piena di astio sai nessuno qui osa pensare o dire di venire da grafene alexandrovna per quelle brutte cose si credi il vecchio è l'unico con il quale ho a che fare a lui sono stata legata venduta satana ci ha unito però non c'è mai stato nessun altro eppure guardando te avevo deciso ne farò un sol boccone ne farò un sol boccone e mi farò una gran risata vedi che cagna cattiva che sono e tu che mi hai chiamata sorella ma ecco che adesso è arrivato il mio oltraggiatore e io me ne sto seduta ad aspettare sue notizie e sai in che modo mi ha oltraggiato quell'uomo cinque anni fa quando Cusma mi portò qui io me ne stavo rintanata in casa mi nascondevo alla vista degli altri perché non mi vedessero e non mi sentissero era un magrolina e stupida me ne stavo qui a singhiozzare non chiudevo occhio per notti intere e pensavo dove sarà mai in questo momento il mio oltraggiatore forse sta ridendo di me con un'altra se solo lo potessi vedere se solo lo potessi incontrare un giorno gliela farei pagare per quello che mi ha fatto gliela farei pagare di notte al buio si inghiozzavo nel cuscino e rimuginavo su questo mi lasceravo il cuore a bella posta e lo saziavo con la mia rabbia gliela farò pagare gliela farò pagare così gridavo al buio da quando mi sovveniva di colpo che non gli avrei potuto fare un bel niente che lui in quel momento forse se la rideva di me o forse si era completamente dimenticato di me e non mi ricordava affatto allora dal letto mi gettavo sul pavimento mi scioglievo in lacrime di impotenza e giacevo lì tremante sino all'alba la mattina mi alzavo più arrabbiata di una cagna pronta a sbranare il mondo intero e poi sai cosa mi misi a fare cominciai ad accumulare un capitale diventai spietata mi rimpinguai ma tu credi che mi sia fatta più saggia nel frattempo eh neanche per sogno nessuno lo vede nessuno in tutto l'universo lo sa ma quando si fa notte alcune volte me ne sto sdraiata esattamente come quando ero una ragazzina come cinque anni fa digrigno i denti e piango tutta la notte gliela farò pagare gliela farò pagare penso hai ascoltato tutto quello che ti ho detto ecco adesso mi puoi capire un mese fa mi arriva all'improvviso una lettera e lui sta venendo è rimasto vedovo vuole vedermi mi senti mancare il respiro santo il dio e all'improvviso pensai lui arriva mi fa un fischio io gli corro incontro come un cagnolino bastonato colpevole penso questo e non credo a me stessa ma sono proprio così vigliacca o no correrò da lui oppure no e sono stata in preda a quella stessa rabbia contro me stessa per tutto il mese una rabbia ancora peggiore di cinque anni fa adesso vedi Agiosha quanto sono violenta e vendicativa ti ho detto proprio tutta la verità mi sono divertita con Mitia per non correre da quell'altro sta zitto Rakitka non tocca a te giudicarmi non stavo parlando con te prima del vostro arrivo me ne stavo sdraiata qui aspettavo pensavo decidevo il mio destino e voi non saprete mai che cosa provavo nel mio cuore no Agiosha di alla tua signorina che non se la prenda per quello che è avvenuto tre giorni fa e nessuno al mondo saprà come mi sento in questo momento e non potrà mai saperlo perché forse prenderò con me un coltello non mi sono ancora decisa e dopo aver pronunciato questa tragica frase Lucia incaccrollò non terminò il suo discorso si coprì il volto con le mani si gettò sul divano e proruppa in singhiozzi fra i cuscini come una bambina Agiosha si alzò dal suo posto e si avvicinò a Rakitin Mischa disse non te la prendere lei ti ha offeso ma non te la prendere l'hai sentita adesso? non si deve pretendere troppo dall'anima di una persona bisogna essere più misericordiosi Agiosha disse queste parole per un irrefrenabile impulso del suo cuore aveva bisogno di esprimersi e si rivolse a Rakitin se non ci fosse stato Rakitin avrebbe parlato da solo ma Rakitin gli gettò un'occhiata piena di scherno e Agiosha si bloccò di colpo il fatto è che ti hanno tanto caricato col tuo Starec la notte scorsa e adesso me lo spari addosso Agieshenka uomo di Dio disse Rakitin con un sorriso carico d'odio non ridere Rakitin non ti burlare di lui non parlare del defunto egli è superiore a tutti nel mondo gridò Agiosha con la voce rotta dal pianto non ti ho parlato come un giudice ma come l'ultimo degli imputati chi sono io davanti a lei? ero venuto qui per rovinarmi e mi dicevo sia quel che sia che importa e questo per la mia pusillanimità mentre lei dopo cinque anni di tormenti non appena il primo arrivato le dice una parola sincera ha perdonato tutto ha dimenticato tutto e piange il suo oltraggiatore è tornato la chiama e lei gli perdona tutto e corre da lui felice e non prenderà il coltello non lo prenderà no io non sono come lei non so come sia tu Mischa ma io non sono come lei oggi adesso ho imparato la lezione e lei è superiore a noi per capacità di amare hai mai sentito prima quello che ha appena raccontato? no non l'hai sentito se lo avessi sentito l'avresti capito tutto da un pezzo e anche la persona che lei ha insultato due giorni fa la perdonerà la perdonerà se verrà a sapere e lo verrà a sapere quest'anima non è ancora in pace con se stessa occorre essere indulgenti con essa in quest'anima si può celare un tesoro a Yosha tacque perché gli mancava il fiato a dispetto della sua collera Rakitin lo guardò meravigliato non si sarebbe mai aspettato dal dolce a Yosha una tirata del genere ma guarda che popò di avvocato è venuto fuori che ti sei innamorato di lei eh? Agrafena Aleksandrovna il nostro bigotto qui si è proprio innamorato di te hai vinto tu gridò ridendo spudoratamente Grushenka sollevò la testa dal cuscino e guardò a Yosha con un sorriso commosso che si radiò dal suo volto gonfiandosi all'improvviso per le lacrime lascialo stare Yosha mio cherubino non vedi che ha trovato pane per i suoi denti io Mikhail Osipovich e si rivolse a Rakitin volevo chiederti perdono per essere stata scortese con te ma adesso non ne ho più voglia vieni da mia Yosha siediti qui e lo invitò a sé con un sorriso felice ecco siediti qui così dimmi lo prese per mano e lo guardava in faccia sorridendo dimmi lo amo oppure no? il mio altraggiatore lo amo oppure no? prima del vostro arrivo me ne stavo sdraiata all'oscuro e interrogavo il mio cuore lo amo oppure no? risolvi tu il mio interrogativo Yosha l'ora è arrivata quello che tu deciderai sarà devo perdonarlo oppure no? ma tu l'hai già perdonato rispose Yosha sorridendo sì l'ho già perdonato è vero replicò Grushenca pensierosa che cuore vigliacco brindiamo al mio cuore vigliacco afferrò a un tratto la coppa di champagne dal tavolo beve tutto ad un fiato e lo scaraventò per terra la coppa andò rumorosamente in frantumi una certa sfumatura di crudeltà balenò nel suo volto però forse non l'ho perdonato disse quasi in tono di minaccia chinando gli occhi come se stesse parlando a se stessa forse il mio cuore si sta solo preparando a perdonarlo ma combatterò ancora con il mio cuore vedi Yosha ho cominciato ad amare le lacrime di questi cinque lunghi anni ma forse ho cominciato ad amare soltanto l'oltraggio subito e non lui beh non vorrei proprio essere nei panni di quello lì si bilò Rakitin e non ci sarai Rakitka non ci sarai mai nei suoi panni tu mi cucirai le scarpe Rakitka ecco che mansione ti assegnerò tu non avrai mai una donna come me e neanche lui forse neanche lui e allora perché ti sei bardata in questo modo la stuzzicò velenosamente Rakitin non rinfacciarmi il mio vestito Rakitka non sai ancora di che cosa è capace il mio cuore se voglio il mio vestito lo strappo tutto adesso in questo istante gli do con voce squillante tu non sai a che serve questo vestito Rakitka forse quando lo vedrò gli dirò mi hai mai vista così prima d'ora mi ha lasciata che ero una piagnona scarna e tisica di diciassette anni poi mi sederò accanto a lui lo affascinerò e lo farò infiammare hai visto come sono adesso bene accontentati di questo egreso signore ti sei leccato i baffi ma il boccone non l'hai assaggiato ecco a che serve questo mio vestito Rakitka concluse Grushenka con una risatina rabbiosa sono sfrenata Alexia vendicativa sono capace di lacerarmi il vestito distruggere la mia bellezza deturpare il mio viso tagliarlo con il coltello e andare a chiedere l'elemosina se solo lo volessi non andrai da nessuna parte adesso e da nessuno se volessi rimanderei indietro a Kuzma tutto quello che mi ha regalato tutti i suoi soldi e andrei a fare l'operaia a giornata pensi che non sia capace di farlo Rakitka pensi che non abbia il coraggio di farlo lo farai lo farai potrei farlo anche adesso solo non esasperatemi e quello lo caccierei lo lascerei con un palmo di naso e non mi farei nemmeno vedere urlò estericamente le ultime parole ma ancora una volta cedette si coprì il volto con le mani si gettò nel cuscino e proruppa in singhiozzi Rakitin si alzò è ora disse è tardi non faranno più entrare al monastero Ruschenka scattò in piedi non te ne vorrai andare anche tu Agiosha esclamò stupita e addolorata che cosa mi fai mi hai sconvolta torturata e poi mi lasci un'altra volta sola ad affrontare questa nottata non vorrai che lui passi la notte qui da te ma se lo vuole lui che lo faccia pure me ne andrò da solo motteggiò Rakitin sarcasticamente taci anima perfida mi gridò con violenza Ruschenka tu non mi hai mai saputo dire le parole che è venuto a dirmi lui e che cosa ti avrebbe detto lui di tanto speciale gracchiò Rakitin irritato non so dirtelo non lo so non so che cose mi abbia detto di speciale ha parlato il mio cuore ha messo a soccuadro il mio cuore è stato il primo l'unico ad avere pietà di me Cherubino perché non sei venuto prima da me e cadde all'improvviso in ginocchio davanti a lui come rapita ho aspettato tutta la vita una persona come te ho aspettato sapevo che una persona come te sarebbe venuta a perdonarmi ho creduto che ci fosse qualcuno che potesse amare anche me perversa come sono e di un amore che non fosse un'infamia che cosa ho mai fatto io risposta Dioscia sorridendo teneramente curvandosi su di lei e prendendole la mano fra le mani ti ho dato una cipollina la cipollina più piccola che ci sia ecco soltanto questo detto questo scoppiò a piangere anche lui in quel momento si è di trambusto all'ingresso qualcuno entrò nell'anticamera Grushenka balzò in piedi come terrorizzata Fenia accorse rumorosamente in salotto gridando signora cara signora la staffetta è arrivata al galoppo gridò trapelata e contenta una carrozza da macroe per voi il vetturino timofei con la troica adesso stanno attaccando i cavalli freschi la lettera la lettera signora ecco la lettera aveva la lettera in mano l'aveva agitata per aria per tutto il tempo mentre parlava Grushenka le strappò la lettera di mano e la portò vicino alla candela era solo un bigliettino alcune righe la lesse tutta in un batter d'occhio mi manda a chiamare gridò paledissima con il viso contratto da un sorriso sofferente ha fatto un fischio corri qui cagnolino ma indugiò titubante solo per un attimo poi all'improvviso il sangue le montò alla testa e le infiammò le guance c'andrò esclamò all'improvviso cinque dei miei anni addio addio agli oscia il mio destino è deciso andate andate andatevene via tutti che non vi veda mai più Grushenka ha preso il volo verso una nuova vita non ricordarmi con rancore nemmeno tu Rakitka forse sto andando incontro alla morte è come se fossi ubriaca e lei abbandonò in men che non si dica e corse in camera da letto beh adesso non ha più tempo di pensare a noi grugnì Rakiti andiamo altrimenti ci toccherà sentire ancora tutte quelle urla femmine mi hanno seccato tutti questi strilli lacrimevoli agli oscia macchinalmente si lasciò portare via nel cortile adesso stava una carrozza avevano staccato i cavalli andavano avanti e indietro con una lanterna si davano un gran da fare introdussero i tre cavalli freschi attraverso il portone spalancato agli oscia e Rakitin erano appena scesi dal terrazzino d'ingresso quando si spalancò la finestra della camera da letto di Grushenka e quella con voce squillante gridò dietro ad agli oscia agli esca porta i miei saluti al tuo caro fratello Mitienka e digli di non servare lancore per me anche se gli ho fatto del male e riferisci gli pure queste mie parole a Grushenka è toccato un mascalzone non un gentiluomo come te e digli pure che Grushenka lo ha amato per un'oretta solo per un'oretta ma lo ha amato e ricordi quindi quell'oretta per tutta la vita a partire da oggi digli che è Grushenka che lo ordina per tutta la vita e la concluse con la voce rotta dai singhiozzi la finestra si chiuse di colpo mmm mmm borbotò Rakhitin ridendo prima rovina tuo fratello Dimitri e poi gli ordina di ricordarla per tutta la vita questa è ingordigia carnivora agli oscia non disse nulla come se non avesse sentito camminava di gran carriera accanto a Rakhitin come se avesse una fretta precipitosa era assorto nei suoi pensieri e procedeva macchinalmente Rakhitin sentì una specie di fitta improvvisa come se qualcuno avesse messo il dito in una ferita ancora aperta non si sarebbe aspettato nulla di quello che era accaduto mentre conduceva gli oscia da Grushenka era andata tutta al contrario di come aveva ardentemente sperato è un polacco quel suo ufficiale riprese a parlare controllandosi e non è affatto un ufficiale adesso prestava servizio alla Dogana in Siberia da qualche parte sul confine cinese dunque sarà uno di quei polaccucci di mezza tacca dicono che abbia perso il posto adesso ha sentito che Grushenka ha ragruzzolato un capitale ed è tornato ecco in cosa consiste tutto il miracolo gli oscia non lo stava a sentire nemmeno questa volta la chitti sbottò e così hai convertito una peccatrice scoppiò a ridere pieno di stizza contro gli oscia hai ricondotto la meretrice sulla retta via hai scacciato i sette diavoli eh ecco quei miracoli per i quali smaniavi tanto questa mattina vedi si sono realizzati smettila la chitti rispose gli oscia con un profondo dolore nell'anima che mi disprezzi per i venticinque rubli di poco fa dirai tu ha venduto un amico sincero ma tu non sei Cristo e io non sono Giuda ah Rakiting te lo assicuro me ne ero persino dimenticato esclamò gli oscia sei stato tu a ricordarmelo adesso ormai Rakiting aveva perso completamente le staffe ma che il diavolo vi pigli tutti uno per uno strillo inaspettatamente e perché diavolo mi sono attaccato a uno come te d'ora in poi non ti conosco più vattene per conto tuo la strada è tutta tua ed egli svoltò bruscamente in un'altra strada lasciando agli oscia da solo nell'oscurità agli oscia si lasciò alle spalle la città e proseguì verso il monastero attraverso la campagna cana di galilea era molto tardi secondo le abitudini del monastero quando agli oscia giunse all'eremo il frate guardiano lo fece entrare in via del tutto eccezionale erano appena suonate le nove l'ora del riposo e della quiete generale dopo una giornata così inquietante per tutti agli oscia aprì timidamente la porta ed entrò nella cella dello starich dove adesso c'era la sua a bara oltre a padre paesi che leggeva per conto suo il vangelo presso la bara e il giovane novizio porfiri che spossato dalla conversazione della notte precedente e dal trambusto di quella giornata dormiva sul pavimento della stanza attigua con il pesante sonno della sua giovane età nella cella non c'era nessun altro padre paesi aveva sentito entrare agli oscia eppure non aveva neppure guardato dalla sua parte agli oscia si diresse verso destra si inginocchiò in un angolo e si mise a pregare la sua anima era traboccante ma di sentimenti confusi nessuna singola sensazione emergeva sulle altre al contrario una confluiva nell'altro in una lenta regolare rotazione eppure aveva un senso di dolcezza nel cuore e strano a dirsi non se ne meravigliava aveva un'altra volta davanti a sé quella bara quel cadavere completamente nascosto alla vista che era così prezioso per lui ma non sentiva dentro di sé quella compassione sorda tormentosa che lo aveva fatto soffrire quella mattina appena entrato egli era crollato in ginocchio davanti alla bara come davanti a un'immagine sacra ma nel suo cuore e nella sua mente raggiava gioia solo gioia avevano aperto una delle finestre della cella e l'aria si era fatta pulita e fresca allora l'odore si era fatto ancora più intenso se si sono decisi ad aprire la finestra pensò agli oscia ma anche il pensiero del corpo in decomposizione che poco prima gli era sembrato così orribile colmo di infamia in quel momento non suscitò in lui l'angoscia e lo sdegno della mattina cominciò sommesso a pregare ma ben presto si accorse da solo che stava pregando macchinalmente frammenti di pensieri gli balenavano alla mente e si incendiavano come stelline filanti estinguendosi immediatamente sostituiti da altri pensieri ma in compenso nella sua anima dominava un senso di pienezza di sicurezza e consolazione del quale gli stesso era consapevole di tanto in tanto si metteva a pregare ardentemente aveva un gran desiderio di ringraziare di amare ma una volta iniziata la preghiera passava subito a qualcos'altro e sprofondava nei suoi pensieri dimenticando sia la preghiera sia ciò che l'aveva interrotta cominciò a prestare ascolto a quello che leggeva Padre Paisì ma esausto per la stanchezza lentamente si assopiva e tre giorni dopo c'era un banchetto nuziale in Cana di Galilea leggeva Padre Paisì e la madre di Gesù di prese parte e alle nozze fu invitato Gesù con i suoi discepoli nozze ma quali nozze frullò come un vertice nel cervello di Alyosha c'è felicità anche per lei è andata a un banchetto no non ha preso il coltello non ha preso il coltello era soltanto un'espressione tragica beh dobbiamo perdonare le parole tragiche dobbiamo assolutamente farlo le parole tragiche consolano l'anima senza di esse il dolore sarebbe troppo insopportabile per gli uomini Rakitin se ne è andato per il vicolo fino a quando Rakitin penserà alle offese subite se ne andrà sempre per il vicolo mentre la strada è larga dritta luminosa cristallina e c'è il sole alla fine di essa ah che cosa leggono ed essendo venuto a mancare il vino dice a Gesù la madre non hanno più vino giunse all'orecchia di Alyosha ah sì mi sono lasciato sfuggire qualcosa e non volevo lasciarlo sfuggire amo molto quel passo sono le nozze di Cana di Galilea il primo miracolo ah quel miracolo quanto mi è caro quel miracolo Cristo visitò la gioia degli uomini non il dolore e compiendo il suo primo miracolo contribuì a dar gioia agli uomini chi ama gli uomini ama pure la loro gioia il defunto lo ripeteva in continuazione era una delle sue idee più sublimi senza gioia non si può vivere dice Mitia sì Mitia tutto ciò che è vero e meraviglioso è sempre pieno di perdono era solito dire anche questo e Gesù le dice che ho da fare con te o donna l'ora mia non è ancora arrivata dice la madre ai servitori tutto quello che vi dirà fatelo fatelo la gioia la gioia dei poveri degli uomini molto poveri erano certamente poveri e non avevano neanche il vino per le nozze scrivono gli storici che a quel tempo le popolazioni che abitavano intorno al lago di Genazareth erano le più povere che si possa immaginare e il gran cuore dell'altra magnifica creatura che si trovava lì la madre di lui sapeva che egli non era venuto soltanto per il suo grande e terribile sacrificio ma che il suo cuore era accessibile anche alla semplice festosità senza artifici delle creature umili umili e ingenue che lo avevano gentilmente invitato alle loro misere nozze l'ora mia non è ancora arrivata dice un cheto sorriso sicuramente gli fece un mite sorriso e infatti era forse venuto sulla terra per moltiplicare il vino alle nozze dei poveri eppure egli andò e fece quello che ella diceva ecco che legge di nuovo Gesù disse loro empite d'acqua le idrie ed essi le impirono fino all'orlo e poi disse loro ora attingete e portate al maestro di tavolo e portarono or come ebbe il maestro di tavolo assaggiata l'acqua mutata in vino che non sapeva donde venisse ma lo sapevano i servitori che avevano attinto l'acqua chiamò lo sposo e disse tutti offrono da principio il vino migliore e quando son già brilli danno l'inferiore mentre tu hai serbato il migliore fino ad ora ma che cosa succede che cosa succede perché la stanza si sta allargando ah sì è un banchetto di nozze uno sposalizio sì certo ecco anche gli ospiti ecco seduta la giovane coppia e la folla allegra e dov'è il saggio maestro di tavola della festa ma chi è quello chi è le pareti si allontanano ancora chi si sta alzando da quel grande tavolo come anche lui è qui ma sei nella bara ma è anche qui si è alzato mi ha visto viene verso di me oh signore sì a lui a lui si era avvicinato quel vecchietto scarno con le fitte rughette sul viso felice e con un cheto sorriso sulle labbra la bara era sparita ed egli indossava lo stesso abito del giorno prima quando stava con loro quando gli ospiti si erano riuniti intorno a lui aveva il viso scoperto gli occhi raggianti come era possibile allora anche lui era stato invitato alle nozze di cana di galilea sì mio caro anche io sono stato invitato invitato e chiamato si udì la sua voce tranquilla perché ti sei nascosto qui che non ti vede nessuno vieni anche tu da noi era la sua voce la voce dello starezzosima come potrebbe non essere lui se lo chiamava lo starezz sollevò agli oscia per un braccio quello si alzò noi ci stiamo rallegrando proseguiva lo scarno vecchietto stiamo bevendo il vino nuovo il vino della nuova grande gioia vedi quanti ospiti ecco lo sposo e la sposa ecco il saggio maestro di tavola che assaggia il nuovo vino perché ti meravigli di me ho dato una cipollina e così sono qui anche io e molti sono qui per aver dato una cipollina solo una piccola cipollina che cosa sono in fondo tutte le nostre azioni anche tu mio Keto mio mite ragazzo anche tu oggi sei stato capace di dare una cipollina a una donna bisognosa dai inizio caro dai inizio al tuo lavoro mio mite ragazzo ma vedi il nostro sole lo vedi ho paura non oso guardarlo sussurrò agli oscia non averne paura terribile nella sua grandezza rispetto a noi terrificante nella sua sublimità ma infinitamente misericordioso egli si è fatto uguale a noi per amore e gioisce insieme a noi converte l'acqua in vino per non interrompere la gioia degli ospiti aspetta nuovi ospiti ne invita continuamente di nuovi e così nei secoli dei secoli ecco che portano il vino nuovo vedi stanno portando le caraffe qualcosa brulicava nel cuore di agli oscia qualcosa lo riempì improvvisamente sino a farlo soffrire lacrime di estasi proruppero dall'anima sua egli allungò le mani gettò un grido e si svegliò di nuovo la bara la finestra aperta di nuovo la pacata solenne chiara lettura del vangelo ma agli oscia non prestava più ascolto a quanto si leggeva strano si era addormentato in ginocchio mentre adesso si trovava in piedi poi ad un tratto come se qualcosa lo spingesse in avanti con tre rapidi passi egli si accostò alla bara sfiorò persino padre paesì con la spalla senza nemmeno accorgersene questi per un istante fece per sollevare verso di lui lo sguardo ma poi lo distorse subito comprendendo che al ragazzo era accaduto qualcosa di inconsueto agli oscia si trattenne a guardare la bara per mezzo minuto guardava il cadavere coperto immobile allungato nella bara con un'icona sul petto e il cappuccio con la croce a otto punte sul capo aveva appena udito la sua voce ed essa gli risuonava ancora nelle orecchie egli si mise ancora all'ascolto in attesa di altre parole ma all'improvviso giratosi bruscamente egli uscì dalla cella non si soffermò nemmeno sul terrazzino d'ingresso ma scese rapidamente giù per le scale la sua anima traboccante anelava alla libertà allo spazio all'infinito la volta celeste punteggiata di placide stelle splendenti si stendeva ampia e sconfinata sopra di lui la via lattea si allungava in due palli di striature dallo zenito all'orizzonte la notte fresca e tranquilla sino all'immobilità avvolgeva la terra intera le bianche torri e le cupole dorate della cattedrale rilucevano sullo sfondo del cielo color zaffiro i lussurezzanti fiori autunnali delle aiuole intorno alla casa si erano assopiti in attesa del giorno il silenzio della terra sembrava fondersi con quello del cielo il segreto della terra faceva tutt'uno con quello delle stelle aglioce stava in piedi ad osservare la notte quando ad un tratto si gettò di colpo per terra non sapeva perché stesse abbracciando la terra non si spiegava perché desiderasse così irrefrenabilmente baciarla eppure la baciava piangendo singhiozzando la irrorava con le sue lacrime e giurava appassionatamente di amarla di amarla nei secoli dei secoli irrora la terra con le lacrime della tua gioia e amale quelle tue lacrime risuonò dentro di lui per che cosa stava piangendo nella sua esultanza egli piangeva persino per quelle lacrime che brillavano per lui dall'abisso della notte e non si vergognava della propria estasi era come se i figli di tutti questi innumerevoli mondi divini si fossero uniti tutti insieme nella sua anima ed essa trepidasse al contatto con gli altri mondi aveva voglia di perdonare tutti di tutto e di chiedere perdono ma non per se stesso no ma per tutti per tutto e per ogni cosa mentre per me saranno gli altri a chiedere gli risuonò ancora nella mente ma ad ogni istante egli avvertiva chiaramente e quasi tangibilmente che qualcosa di stabile e imperturbabile come la volta del cielo era penetrato nella sua anima era come se un'idea avesse preso il sopravvento nella sua mente e per tutta la vita e per i secoli dei secoli quando era caduto a terra era un giovane fragile ma quando si rialzò era ormai un guerriero risoluto per tutta la vita questo lo avverti subito ne fu subito consapevole in quello stesso momento di estasi e mai mai nel corso della sua vita Agiosha poté dimenticare quell'istante qualcuno visitò la mia anima in quell'ora diceva credendo fermamente alle proprie parole tre giorni più tardi egli lasciò il monastero anche in obbedienza alla parola dello starec defunto che gli aveva ordinato di vivere nel mondo